hello buonasera 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 buongiorno buon a seconda di quando state guardando questo podcast video e bentornati su indi di bang sessione non mi ricordo sinceramente quattro cinque che loro ascoltano quarta ok assi ok ma ora noi la capitolo dei quattro sessioni barra 5 mi mancava devo dire vabbè però non è stata mini sessione è vero non è stata mini sessione come come oggi sarà mini sessione perché comunque dopo aver finito il primo capitolo oggi ci andiamo a impelagare nel secondo capitolo della campagna dei furto dei dragoni i dragoni di waterdeep e chi meglio di no rotus per fare il riassunto oggi allora cosa è successo nell'ora e mezza della scorsa sessione questo dipenderà un pochino a lontano cioè facciamo un attimo un riassuntone velocissimo di tutto quello che è successo nel primo capitolo vorrei giocare più di un ora molto sono nato ci è stato dato un incarico da volo di salvare un suo amico un contadino di nome flun abbiamo investigato siamo riusciti a ricondurre il rapimento di flun a la città di xanatar e a che cazzo si chiamano mi manca il nome di zenterim che sono diciamo due associazioni mafiote di waterdeep investigando siamo riusciti a trovare invece lord che in pratica è diciamo l'origine di questo rapimento dato che flun si assomiglia particolarmente con questo lord figlio del lord svelato precedente di waterdeep e che poi è scappato con un botto di soldi per cui ti sono molto interessati a questo bottino l'obiettivo per cui renner è nelle mire di queste associazioni criminali e che suppongono che lui possa sapere dove sono nascosti tutti i soldi che ha rubato suo padre e questo malloppo sia legato alla pietra di golor che abbiamo sentito tornare più volte nei discorsi e ciò che cerca effettivamente agire e renner si è unito a noi abbiamo continuato la nostra investigazione che ci ha portato in un copo della gilla di xanatar nelle fogne di waterdeep raggiunto il covo e qui arriviamo in pratica alla sessione precedente abbiamo sgominato i nemici che vengono all'interno ma purtroppo il nostro compagno di parti rashad è morto di una morte atroce esploso da abbiamo sconfitto rashad capo locale della gilda che però sembrava essere sotto l'influenza di un mind flayer grushar lasciata sotto controllo di un mind flayer probabilmente anche due partiti gilda e qui inizia la sessione scorsa dove abbiamo un attimo abbiamo salvato flune richiesto cosa gli chiedevano abbiamo scoperto di nuovo che volevano sapere di più sulla pietra di golor abbiamo setacciato un po la zona abbiamo trovato uno scrigno pieno di monete non del altissimo valore ma un po di monete con delle pozioni di cura abbiamo ritirato sul nostro amico cilis che aveva cominciato a vedere la luce in fondo al tunnel abbiamo rimesso in sesto anche flune e poi abbiamo trovato un tunnel sotterraneo che da cui è da un uscita diciamo una botola nascosta ci ha portato nel scantinato di una casa di waterdip che si è scoperto appartenere alla famiglia pibodi degli alfling che producono birra adorabilissimi gentilissimi abbiamo cercato molto diplomaticamente di farli capire che ci serviva al loro aiuto se potete che non avevamo intenzione di fargli del male in anzi tanto che è molto importante per loro e che ci serviva appunto che ci ritassero a chiamare la guardia cittadina che a corsa si è presa in carico diciamo di sistemare tutte le questioni inerenti al felicemente presa in carico sì perché tipo le 4 di mattina contentissimi e soprattutto anche di riportare le spoglie del nostro compare al tempio i resti più che spoglie i resti ma nel senso che non c'era più niente praticamente da parte del corpo non c'era più niente del resto c'era era stato spappolato e a questo punto poi rennerci ha ospitato per una notte nella sua rigge anche l'indomani dopo una bella dormita che ci ha portato via tutta la mattinata abbiamo deciso di dirigerci insieme a flunna la tavana del portale spalancato per ricevere la nostra ricompensa da volo che tuttavia ha detto purtroppo non è che ho proprio i soldi per pagarvi ma vi posso fare un'offerta ancora migliore dato che vi posso dare in concessione in maniera test che ho di troll e dovremo condividere questa concessione con un'altra persona a cui diciamo che ha aiutato volo recentemente e che ha diritto al maniero però da oggi appena firmiamo il contratto siamo a tutti gli effetti i possessori di questo maniero off camera cumminori se si è fatto un bel lavoro in comune un comune se si ha controllato il registro che fosse tutto ok l'attacca tasto se si ha fatto tutti sì 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 è tutto in regola è tutto in regola ottimo non ci scama un piccolo errore te la rivendica tenete la tolgo noi sì sì ci vuole poco ma è canon la cosa che si è andato a controllare no l'ho ce l'ho fatto ma temporalmente metti la zona eravamo cioè in game eravamo con volo ma perché probabilmente lo dobbiamo fare veramente adesso secondo me lo dobbiamo fare il punto è in game ora eravamo ancora compone sto andando lì io ti ho detto off camera nel senso che se una cosa che non ha senso ruolare di coppena posso da avere ci facciamo che vogliamo tutto allora l'ultima cosa che appunto avevamo detto era che volo vi stava portando verso quella che appunto sarà la vostra la vostra nuova proprietà dove avrete avreste conosciuto il la quarta persona il volo deve un enorme favore e che quindi sarà comproprietario anche lui di un quarto della quota dell'aniero l'ultima cosa che aveva detto volo era questa qui ma volo ma perché si chiama teschio di troll perché c'era un enorme teschio di troll sulla porta ma devo sapere un po la storia dietro la testa ma certo una volta era una splendida meravigliosa taverna poi cadde in rovina per motivazioni misteriose e nessuno osò più entrare all'interno della taverna quindi recentemente la acquistaia un prezzo non proprio altissimo ma neanche così tanto come dire basso c'è basso per essere una taverna alto per essere un casale abbandonato perché non ti sei finanziato il libro invece che comprare una taverna mi sono finanziato il libro e hai anche comprato la taverna sì perché sto scrivendo più di un libro ovviamente perché devi comprare i soldi a qualcuno quindi tanta gente perché dato che la guida sui mostri non sta avendo l'abbrivio che pensavo che avrebbe avuto sto iniziando a scrivere il secondo capitolo sulla guida agli spiriti agli maniera tanto potrebbe servirmi molto la tua guida dei mostri abbiamo incontrato una cosa molto particolare che non ho proprio ben decifrato e vorrei poi cercherò un riscontro in caso ti faccio una recensione positiva grazie metti like 5 stelle no vabbè comunque in generale dico no io a me affascina molto parlerò all'enclave a noi vero e segreto dico no comunque piace molto soprattutto se c'è tutta una parte dedicata alle creature naturali le bestie o beh c'è un'enciclopedia su qualsiasi creatura gli abbia incontrato nei viaggi incontrate tantine e sono tipo 400 pagine enciclopedia quindi in realtà al di là del al di là del gioco è utile il libro di volo cioè non porca potenza se utile il libro di volo perché tu mi hai detto che volo è famosissimo nel mondo di dnd cioè non è ancora famoso non è ancora per cioè noi che ne abbiamo una copia può esserci utile a noi ok volevo sapere prima edizione come fare la scatola rossa di dnd parte che parte quello ma in generale adesso se vorrete fare e ci sta che se potrete fare tiri per conoscere robe che non avrebbe senza conosciate se qualcuno di voi si mette a leggere il libro certo ripeto sono tipo tre quattrocento pagine di un'enciclopedia quindi sì però io pensavo per esempio di portarmelo dietro nella faccotta vedi che vedi una creatura aha di rinfori l'enciclopedia ti metto nei sei secondi di reazione dire pagina 328 pagina 328 ci metti i segnalibrini abcini no comunque la leggerò ok quindi per quello sì quindi quindi si dice che si è infestata beh sì io l'ho accusata per quel motivo però sinceramente non ho mai non sono ancora entrato sono stato un po sono stato un po occupato con come dire il lo spingere all'acquisto sull'evitare che i miei amici venissero uccisi diciamo che non sono l'ho comprata prima di partire per il viaggio per scrivere il primo libro e poi una volta tornato è successo quello che sapete ah ok però scrivi veloce wow insegnami ti prego ma ci ho messo cinque anni viaggio viaggio lungo sei pellegrino anche tu beh sì potremmo dire di sì ma non ero da solo c'erano santi avventurieri molto valorosi e anche altra gente che sapeva fare quello che effettivamente doveva fare tranne che combattere con me ma non mi ricordo vuole un umano sì sì è un umano sulla trentacinquina più o meno con la barba girocollo qui e il cappello con la piuma molto sbuffoso ed è un bravo ragazzo l'altro che sarà con il comproprietario beh sì mi ha salvato la vita durante una risa di strada sapete mi trovo ogni tanto mi trovo in situazioni molto spiacevoli perché quando vai a spingere il tuo libro al quartiere del porto di notte alle undici e mezza di sera perché il tuo promoter dice che è un'ottima idea tu ci vai a cambiare promoter è morto forse ho capito perché ma non l'hanno mica coltellato un'altra sera no no qualche sera prima ah no perché sono tanto più visto quello era sangue fresco era sangue fresco a kuminaris quello era sangue fresco esatto e viete è arrivato questo ragazzotto alto tipo e vi facendo che più o meno è un po' più alto anche di voi e viete ha cominciato a prendere la scudata in faccia alla gente e le ha mandate via ah wow interessante beh è interessante comunque sapere di incontrare una persona che ha messo a rischio la propria vita per aiutare qualcuno sì ecco non sembrava estremamente cosciente del fatto che la potessero uccidere però non mi è sembrato sveglissimo è onore o incoscienza esatto ma in entrambi i casi è stato volto a un'azione ah ma certo sì sono vivo è una macchina degli imprevisti o una vittima degli eventi bene quindi mi piace beh ovviamente adesso una volta che vedrete il maniero prima di entrarci prima di dovremmo svolgere un attimino due cose burocratiche ma non vi preoccupate ho avvisato il il magister di incontrarci appunto davanti alla alla magione per iniziare a fare a fare gli atti ma così tanto potete cominciare a controllare un attimino cosa cosa c'è all'interno anche perché appunto è tanto tempo che nessuno ci entra quindi magari ecco non sarà certo pulitina qualcuna da gioco alla polvere ma io sono allergico alla polvere ma io sono allergico alla polvere flic o flock un due che domanda che è stupido io che chiedo chi vuoi che sia allergico alla polvere soprattutto per le mentale c'è nasi dell'aria esatto non solo per dire non c'è quasi dell'aria allergico alla polvere è magico ti vuoi bene credo che senza di te in questa squadra mancherebbe una grande parte di ironia ma io sono serio ok allora volo vi conduce all'interno del del vicolo teschio di troll perché prende appunto il nome dalla taverna che effettivamente cominciate a vederla anche da lontano svetta rispetto a qualsiasi altro edificio nella zona poiché è un edificio a tre piani con una torre quindi di conseguenza è estremamente grossa è per quello dal nome alla strada oltre questo sapete di essere nella zona commerciale quindi nella zona dove scorrono abbastanza i dindini dove lavorano gli artigiani e diciamo che real estate movie eh? real estate movie vi dice che volo mentre arrivate vi dice che ovviamente dovrete cercare di stringere i rapporti di amicizia con la gente che lavora l'intorno perché probabilmente sarà interessata se nel caso vorreste restaurare e rimettere in attività per qualsiasi in qualsiasi modo cioè nel senso qualsiasi cosa vorreste farci d'altronde è un'attività è un'attività commerciale potenzialmente qualsiasi vogliate aprire vi spiega inoltre volo che dato che non sa che non siete proprio di qua che Watertip tende a essere un po' burocratica e di conseguenza vi servono tanti permessi tanti moduli tanti documenti per fare le cose e fare una cosa senza sapere cosa stai facendo è molto probabile che vi faccia incorrere molto in fretta in multe o peggio mi ricorda le fatiche di Asterix la burocrazia l'ultimo di salire e scendere il modulo ABX un po' si nel senso che vi spiega ma questo ecco ad esempio io lo sapevo già che all'interno della della città esistono tantissime gilde le gilde non sono le fazioni quelle sono versioni segrete le gilde pensate alle gilde italiane del 1500-1600 tipo le lobby esatto sono un'associazione di persone che svolgono un mestiere o un compito che unite tutte insieme fanno capo a qualcuno che è il loro portavoce che svolgerà i loro come dire i loro interessi nell'assemblea verso i lord eccetera eccetera di conseguenza se volete entrare a far parte del commercio di qualcosa dovete entrare all'interno della gilda esattamente perché se no sareste visti molto male ecco una cosa è certa la burocrazia ci ucciderà ok confido nelle nostre capacità oratorie ok quindi mentre vi avvicinate verso questo enorme edificio con a tre piani notate che non è esattamente è molto strano nel senso che qualche parte spunta in avanti qualche parte manca un pezzo dietro non sapete se è stato pensato così alla nascita o se a un certo punto boh è crollato qualcosa un tappullato fatto sta che sicuramente è molto imponente e non serve un artigiano per capirlo fatiscente a bestia questo palazzo è senza culo dalle mie parti c'hanno il culo i palazzi no si anche dalle mie però wow ti dirò dalle mie parti non c'è neanche un palazzo di tre piani se devo essere sincero quindi sono già abbastanza contento di avere un palazzo di tre piani mi sa che ci dovremmo tirare sulle maniche però sono molto eccitato se devo essere sincero tanto bisogna entrare secondo me la parte divertente sarà chiedere permesso perché secondo me è tipo foderato di roba non tanto viva secondo me foderato mi piace cosa intendi Cilis? una ragione che si chiama teschio di troll mi fa pensare che che trazza molto impolverata secondo me non c'è nessuno di vivo che che ha pulito ecco ah in quel senso si senza merito beh puli poi c'è tu Cilis mentre vi avvicinate davanti a quella che sembra essere l'entrata rotta a la magione vedete la figura di un umano abbastanza giovane avrà sui 19-20 anni al massimo con un taglio di capelli abbastanza particolare con solo giusto una una cristina abbastanza non troppo alta abbastanza bassa di capelli al centro che ha una piccola donnola a giro collo quasi come se fosse una pelliccia ma che palesemente si muove ok è viva si si è vivissima tra l'altro vedete che anche una sorta di bagliore cioè è molto strano come animale che sta parlando con una elfling abbastanza attempata cioè di una certa età probabilmente avrà sugli a parlare sempre in termini di anni umani perché se no ciocco di testa a convertire potremmo parlare su una sessantina buona d'anni ok con gli occhialetti ok bello mi avvicino ma sto vicino a Fred ah l'elfling che vabbè non credo di averla già vista ma immagino voi lo sai chi sono quelle persone ah beh si lui è il ragazzo che mi ha salvato e lei è la magister ah ok perfetto beh mi sembra che possiate introdurvi voi si si buongiorno mi piacere di conoscervi io fremmo mi piacere di conoscervi vedete che la ministra si gira e Kailin Silmeriv sono stata chiamata qui dal signor volo per iniziare a procedere con gli atti per attribuire la casa alle vostre persone potessi pietre mellaggata la Kailin Silmeriv io lo guardo e faccio kuminoris lo gnomo ok ok Silis siamo tutti non ho un cognome si immagino che siamo tutti qua per prendere diciamo notificare l'atto di presa di possesso della magione ma invece mi rivolgo ma infatti si stava ponendo verso di voi in avanti vi allunga la mano la persona davanti al gruppo immagino sia Frembo in questo caso perché Silis si caga in un angolo e kuminoris viene superato dalla mano e beh certo che tende a essere altino e ti stringe la mano ti fa oh piacere piacere è il minster qui per non lo so servirvi immagino io lo guardi faccio o divertirsi e gli batto il pugno ti dà un cartone abbastanza forte sulla mano ti sta presamente battendo il pugnetto solo che sarà che lo sta facendo dall'alto sarà che effettivamente la sua armatura che è un'armatura bella spessa in metallo gli lascia scoperte le braccia e vedete che ha dei bei cannoni al posto delle braccia ti tira sto cartone senza volerti far male che però ti lascia un attimino la mano e quindi è il minster e invece lui lei e il la donna ah e vedi che si tira sulla testolina e ti guarda la donna ah lei è pinned pinned sì ok o pinned per gli amici ok vado vado poi non si chiede il nome anche alle donne alle donne alle donne il mister ti piacere di conoscervi la tua energia è contagiosa il mister beh nel senso siamo qui siamo ricchi no sì possiamo metterla vederla in questo senso bravo mi piace il tuo spirito di intraprendenza e di voglia di fare ma vedete io sono sono stato benedetto in questo periodo da una grande perdita e qui di conseguenza è una grande vincita quindi va tutto bene potresti elaborare cosa intendi con benedetto una perdita e quindi una vincita nel senso che i miei sono morti e quindi ho ereditato tutto e quindi ho dei soldi e adesso ho anche un pezzo di una casa però asid nel senso gioisco per la tua fortuna rinnovata ma anche condolianze per la perdita della tua famiglia ah no mi stavano sul cazzo non capivano non mi permetto di giudicare perfetto sono felice di sapere che tu sia felice la tua nuova e rinnovata condizione ok Kuminoris la la piccola donnola che sembra appunto molto strana come donnola sembra la solita di incrociare un furetto una donnola e un suricato ti sì è scritto ok sembra che non è una cosa normale ti salta addosso ok non per per ucciderti ma sì sì immaginavo ti saltella sulla spalla faccio un grattino è un po' grossa per te faccio un grattino sulla testa prezzo ma sì non ci parlo ma lo capisco cioè empatia c'ha c'ha gli occhietti un po' strani cioè sono azzurri ma di un azzurro molto intenso molto elettrico quasi se la guardi proprio dato che ce l'hai qua ok ok va bene ho capito poi mi trasformerò in una donna e le proverò a parlare pinnid gli piaci sono contento e ti dà uno sgassi faccio sì tra l'altro ciò ammazzi il povero ah scusa 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 devo un attimo calibrarmi dico tanto sì poi vabbè non glielo dico poi mi trasformerò in una donna e ci proverò a parlare ah pensavo ci proverò però dice beh dove ci vogliamo mettere per firmare magari dentro non mi sembra il caso ecco io credo che il momento in cui si entri sia anche il momento in cui bisogna tirare fuori le armi ho paura adesso tutto questo pessimismo non mi sembra cioè bisogna gioire e ti dà un paccone sulla spalla ma Cilis entreremo che ti porterò in braccio come le novelle spose non ti preoccupare ma ti guarda ma sei strano tu sto scherzando mi piace scherzare su queste cose poi con Cilis è da prendere in questa maniera no diciamo che a te l'ha detto Cilis ah ah ok grazie cioè non non fettendermi anche tu e indica Fremon poi guarda Coveners no di novi ne ho visti non siamo proprio la razza più rara del mondo cioè non tanti però questa palette azzurri palette è la parola giusta sì questa palette azzurrina è molto molto bella sì ne escono anche più chiare ogni tanto sì come me avresti dovuto vedere nostro precedente compagno pace all'anima sua ancora il terzo membro blu del gruppo vabbè avate però era un po' noioso tutto blu vabbè però se vuoi tu puoi tingerti capito non è che l'abbiamo scelto noi perdonaci no vabbè vedete che è molto pallido cioè la carnagione è molto molto chiara ma comunque diciamo immagino che non voglia perdere troppo tempo la sì tipo kyleen è lì che mi guarda io che so comunque ripeto lavori in comune non mi aiuterà mai a nulla sta roba perché non è che faccia chissà che però mi piace bene bene vedi che tira fuori un pezzettino di legno lo scrolla e fa uscire delle gambette a un piccolo tavolino no organizzato immagino che faccia questo la fura da molti anni fa un sorriso di cortesia chi non porta un tavolino freddo stai sottovalutando la grande capacità del comune di water mi sa che non hai mai dovuto fare delle pratiche ho messo in evidenza che è molto organizzato poi come col caso c'è non ci ascolta la gente però però siamo organizzati si abbassa gli occhialetti e ti guarda lei ne avrà sentito parlare anche lei già si rimette a posto il caso dell'anno cilisocene si gira verso l'arizzonte e grida power to the focene alza il pugno focena paolo alza il pugno anche il ragazzo mi piace bene quindi cioè che atto dovremmo firmare in questo momento Magister tira fuori srotola un bel pergamenone e e vi dice beh qua il comune si impegna a enumare le vostre salve nel caso arrivaste prossimi al decesso in caso di crollo della struttura dopo tutto non è stata tenuta dal comune quindi ci assicuriamo che nel caso in cui venite schiacciati dall'edificio possiate essere esumati a spese del comune firma qua grazie grazie firmo ma è una domanda si mi sta dicendo che in teoria le spese di ristrutturazione sarebbero dovute essere del comune fino ad oggi no però perché non si è preso cura al comune di questa struttura non abbiamo diritto ad essere esumati beh non voi cioè si voi se avete diritto di essere esumati ma diritto di essere rimborsati per le spese di ristrutturazione dovevo averlo e scorre un po' la pergamena la persona che aveva la casa tre proprietari fa quando era ancora una taverna una taverna autorizzata dal comune ho una domanda rapida una domanda molto rapida tre proprietari fa quanto tempo fa? 80 anni vabbè dai sono 23 anni ancora però ho una domanda quant'avate intenzione di vivere voi? beh il messervolo è un proprietario la signora da cui l'ha comprato il signor volo è un altro e quello prima era proprietario della taverna ma la ristrutturazione a spese del comune spette in quanto attività taverna che è essendo autorizzata dal comune non tocca al comune per niente quindi in momenti in cui eventualmente noi come destinazione d'uso dell'immobile scegliessimo nuovamente la taverna potremmo avere diritto alle ristrutturazioni date dal comune quello che ha detto quello che ha detto ovviamente per essere autorizzati come taverna dovete superare l'ispezione non sono abbastanza intelligente per tutto questo quindi vedete che il mister è molto concentrato su quello che sta dicendo la signora io volevo capire perché fosse rendere deep però l'intelligenza 10 è entusiasta quindi noi dobbiamo superare un'ispezione per poter aprire e il mister si gira e fa beh immagino che la cortese signora sta dicendo che se noi non paghiamo la ristrutturazione non ci può autenticare la taverna e di conseguenza non ci può pagare la ristrutturazione quindi qualcuno pensi alla polvere però ci sarebbe la possibilità di ristrutturare la taverna e a quel punto passare l'ispezione visto che immagino che si debbano delle tasse al comune perché immagino dovremmo dare qualcosa al comune in quanto proprietario di un immobile potrebbe essere detratto dalle tasse le spese di ristrutturazione che ci sarebbero dovute beh no perché in quel momento non vediamo nessuna ristrutturazione perché il casale sarebbe a posto nel caso nel caso nel caso nel caso furtuito in cui per un una catastrofe naturale o per colpa del comune o per colpa di altri la vostra taverna si dovesse di nuovo rompere dopo l'autorizzazione allora in quel caso il comune avrebbe una parte del costo dovrebbe andare a pagare raga l'Italia funziona meglio di Waterdeep posso fare un tiro su percezione per capire se lo stiamo prendendo nel culo non è percezione è intuizione intuizione sì sì allora aspetta posso fare un tiro di intuizione per capire oddio fremo parla molto veloce parla in termini che non capisci ma non ti cioè non ti sembra di atteggiamento essere intenzionato a fregarvi sta semplicemente ripetendo la legge cioè ha un tono molto 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 paccato e monotono cioè nel senso è una cosa che probabilmente hai ripetuto 50 volte negli ultimi 10 giorni ok per me va bene io pongo la mia firma bene quindi passando a paragrafo dopo qui il signor volo lo dobbiamo firmare anche gli altri certo che dobbiamo firmare tutti ok perfetto io faccio una piccola x combattiamo sulla prossima pagina poi e dico beh in questa pagina semplicemente il signor volo dice che come regalia senza ricevere denaro in cambio concede il titolo di proprietario di questa taverna alle vostre quattro persone guarda faccio volo hai figli? no hai qualche parente? no nessuno vivo? devo preoccuparmi? no 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 ti rendi conto che non sono ricco vero? devi tanti soldi a qualcuno solo sì allora volo cerca di non morire ci provo e firmo come tutti i giorni un volo selvatico si sveglia e sa che non dovrà morire c'è una donazione volo se schiantava i figli era un casino quindi firmo perfetto un'altra io dicevo la bio invece bene adesso passiamo all'ultima parte ovviamente la tasse di trasferimento non ho spicci quanto è? equivale a percentuale dell'immobile in stato di fattescenza togliendo il fatto che la regalia si comincia a macinare percentuali una domanda signorina tutti i bolli sono compresi per quanto riguarda il passaggio tutti i libri tutte le registrazioni sì certo fermano ok equivale a circa considerando l'importanza storica del monumento 25 dragoni 25 dragoni sì ma che devo peggio e chi chi sgancia riusciamo a fare uno sforzo condiviso perché non credo che nessuno abbiamo beh abbiamo guardo guardo abbiamo la nostra cassa abbiamo la nostra cassafortina con i nostri risparmi che non ho preso il tempo per contare vedete che volo se invece beh dato che comunque avrei ridotto un sacco di soldi mi sembra il minimo che firma un foglietto che dia un pagherò alla signora non piacciono i cosconi non piacciono la faccia di comitori se è quella del Vietnam perché i mafiosi non vanno nelle gambe a volo il comune domani gliele spesso quando scopre che non avrà mai il comune no no vedi che in effetti Kailin lo guarda malissimo e dice no no questo a questo giro non è come al solito è supportato come vede in calce c'è la firma di Lord Neverember a sto giro è coperto oh che uomo che uomo di nuovo posso chiedere poi giusto che venga che qua la taverna venga spedita la ricevuta dell'avvenuto pagamento che vorrei avere la certezza che sia stata pagata la tassa di trasferimento della nostra propria in boccalteschi vedi che prende Kailin prende i soldi firma il il contratto di pagamento dove si attesta che è stata pagata chiude la pergama e dice signori complimenti per l'ottimo acquisto e mette via il tavolino intuizione per vedere io mi giro è ottimo signora è ottimo beh per essere gratis ma domanda visto che lavori comuni ne avrà sicuramente un amico che lo fa ma qua da consigliare un commercialista qualcuno che possa aiutarci di fidato che possa aiutarci con le pratiche che ammetto che per quanto viva qua la 40 anni non ho mai avuto bisogno di lavorare non abbiamo mai avuto bisogno di cose come addizioni trazioni quelle robe la signora dice beh sì certo a un prezzo qualsiasi impiegato del comune potrebbe darvi una mano no sì volevo chiedere un consiglio su qualcuno particolarmente il mister e vi dice beh ragazzi se volete mio padre aveva una vita di costruzione quindi di conseguenza so come funzionano le cose e sono abbiacciami guascone anche te che uomo ok cioè lo so lo so che magari così di primo acchitto sembro un pochino una persona che non si intende delle cose ma ho studiato ti vedete tira fuori dei libri no ma mi fido mi fido il mister mi fido no ma ti crediamo ti crediamo assolutamente io sono già ammirato che uomo ok assolutamente ok si mette via i libri che aveva tirato fuori dall'onsello poi il mister dobbiamo fare una chiacchierata beh si immagino anche più di una si si ma aspetta ti mette un braccio lì vicino e fa risalire l'animale e ci sono ancora addosso si si è una minaccia così mi gira così e dice bene quindi kyleen prende tutto e si cammina per togliersi di culo e una salve buona seggiornata grazie a noi non resta niente scusi un documento si si ce l'ha dati ah ce l'ha dati si l'atto di proprietà ve l'ha dato si 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 custodiamolo nella maniera migliore possibile perché è l'unica vabbè hanno anche i documenti comuni però si ecco anche se per i dati di proprietà non è troppo vi fanno ripagare l'atto tutto qua li possiamo lasciare in taverna se no io comunque nel mio ufficio ho dei cassetti faremo l'ufficio dentro facciamo il nostro ufficio certo bene quindi dovremmo bussare no è nostro cini se vuoi ti prendo in braccio e ti porto dentro come una sposa io sto andando faccio una prova cosa di atleticità cosa è prova di forza attenzione perché lo possiamo vedere anche noi forza pure o faccio atletica no beh nel senso non è neanche una prova stai sollevando una cosa che vuole essere sollevata mamma mia ma che spettacolo beh ma io c'ho meno uno di forza voglio dire ah no non ce la fai allora non ce la fai tu però se è una prova di atletica col bargo a livello 2 sono in grado di ho un più 1 quindi sono a 0 per non deluderlo mi casto dell'evitazione e lo tengo mi tengo su così non voglio creare non voglio dare non voglio deluderlo ma che spettacolo è il bagnero vieni caro entriamo nella nostra maggiore mi casto l'evitazione mi tengo lì così su così almeno rimango lì e mi puoi spingere verso allora come le persone che stanno vedendo il video stanno vedendo comunque descriviamo l'ambientazione come dicevo maniero teschi di troll vedete essere una maniero appunto ha tre piani più soffitta e torre estremamente in rovina purtroppo non ci sono i tagli in rovina ci sono quelle normali e la particolarità essendo appunto il maniero teschio di troll vedete che c'è un enorme teschio di troll sul davanti della porta bello let's go posso strafinarlo per buona fortuna non so ok gnic 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 ok nuova tradizione prebo si frantuma si frantuma no 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 non si frantuma vabbè raga sarà lunga ma io posso preparare e riparare come trucchetto no non ce l'ho è vero non lo prego si preparo riparare come trucchetto tutte le mattine riparo una tavoletta ogni mattina no allora è un trucchetto quindi puoi lanciarlo a volontà il fatto che riparare puoi riparare una superficie tipo al massimo grossa no piano piano togli la cera metti la cera ecco esatto ci metto sei anni è un carissimo coproprietario che viene da una famiglia di costruttori tipo quindi beh sì io non so costruire no no assolutamente però dicevo probabilmente hai contatti giusti per ah beh sì so chi chiedere ottimo perfetto io scherzo ovviamente non intendiamo entriamo nella nostra nuova casa eh io sono già dentro prima voi tranquilli io ti porto in braccio ho detto allora ok oh vabbè io non ho parole della figata che è sta roba guarda come si apre allora entrate all'interno della taverna e vedete che la taverna è distrutta il piano in cui siete tra l'altro ecco adesso ve le passo su telegram perché insieme agli altri proprietà avevano dato un sacco di cose ad esempio avevano dato le planimetrie dell'edificio ovviamente insieme all'atto di proprietà la planimetria dell'edificio appunto come vi dicevo vi fa vedere che l'edificio oh la planeterra una volta aveva la taverna perché sono le mappe che ha il comune di quando è stato ristrutturato l'ultima volta cioè quando era una taverna al piano terra c'era la taverna con appunto la sala grande che appunto vedete davanti a voi completamente distrutta c'è ci sono ancora tipo dei tavoli ma molto rovinati c'è quello che potrebbe sembrare un bancone ma c'è giusto un pezzettino una parte rotta ci sono ancora qualche boccale di stagno molto molto consumato molto molto rovinato tutto ovviamente sparso pieno di ragnatele purtroppo pieno di ragnatele ovviamente pieno di ragnatele vedete dalle planimetrie che oltre quello a lato ci dovrebbero essere le cucine e una piccola dispensina e sempre qui ci dovrebbe essere una botola che vi porta al sotterraneo sotterraneo che ovviamente ogni taverna deve avere per conservare al fresco i salumi i formaggi e le bevande ok mi giro di faccia guardo guardo Fremun e li faccio ciao grazie Cili se non vedevo logali fammi la doccia dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto beh non ci sono scale ah ops allora andiamo a vedere anche ti fa vedere la cartina sono fuori le scale ah si tanto aspetta facciamo una cosa un secondo puliamo il mezzo bancone che c'è posiamo lì i planimetri e tutto così possiamo usarlo un po' come lobby generale dal quale valutare i lavori sì io prima vorrei dare un'occhiata cioè a cosa cosa c'è in ogni piano per cui volevo dare un'occhiata nel basement eh esatto infatti io volevo un attimo preparare un piano di lavoro per poter giusto appoggiare eventualmente delle cose che troviamo i piani così e poi andare da sotto a so sono sincero voglio vedere se c'è una bottiglia di vino dimenticata lì per caso per brindare a questa occasione io voglio controllare se non ci sia una botola che conduce alle foglie però dai dai frey portami giù allora quindi frey io ti mollo cioè perdona mi ti voglio prendere frey sono ho levitazione sono ancora capito è all'atto di portare in braccio vi avvicinate alla botola e aprite? sì sì ma io vado io sono intraprendentissimo almeno spingimi sono 10 centimetri da terra dammi due calci mi piace pensare che sia a volo lui beh perché chi sta ascoltando non lo sa ma non solo vediamo la maggiore c'è una pedina che ci si muove dentro beh esatto perché così vedete quello che vede è la pedina ovviamente non c'è luce certo ma io scuro visione sì e il mister vabbè avremmo due torce vabbè ma abbiamo fatti accendere una torcia mentre scende scusate ma nessuno che c'ha un trucchetto luce così a cazzo di scegliere poteva prenderlo e il mister se voleva ma l'ha usati per prendere altre roba ci sono i cosi per mettere le torce sì ci sono ah però io ne ho visto che comunque ne abbiamo ne accendo un paio e le metto io ho delle candele se proprio vuoi sapere ma no vabbè non è nel kit dell'avventuriero l'avventuriero ma io sì sì ah come io c'ho lo zippo se avete bisogno ma sul serio nel senso ho una roba che si chiama tipo zippo mi fendo a dire dell'esibizionista ma non è il kit dell'esibizionista no ho il kit di oh bella allora vedi che il cumino si guarda attorno ora che c'è anche più anche su scurovisione faccio bella merda ok è tutto sfasciato quella quella parete sfasciata non è un buco nel muro vero? eh no perché stavo cercando di mettere un'altra cosa ma non mi è riuscita tranquillo non ti preoccupare non ti preoccupare poi semmai lo farei è transollo ok è transollo perché purtroppo non c'è il tile con la torcia da muro senza che abbia una roba in avanti che non mi fa funzionare la mappa quindi diciamo che per ora posso mettere questa torcia qui devo dire poi quando ristrutturate faccio tutto cosa c'è sotto? allora vedete che di sotto come è anche segnato nella planimetria ci sono diciamo una stanzetta sulla sinistra che è indicata come cantina dei vini ok la stanza in cui siete scelte la stanza diciamo non c'è solo porte è tutto aperto probabilmente una volta c'erano delle porte ma non ci sono neanche più i cardini quella dove siete adesso c'era scritto che era la cantina delle birre invece dove probabilmente infatti c'è un bello spazio per metterci una bella botte ah eccola la sto vedendo e poco dietro dietro la scala c'è lo spazio per mettere altre piccole botticelle ok o per cominciare a appendere magari appunto cose che devono fare al fresco tipo salumi formaggi cadaveri ci sta vedete che c'è una grande infestazione di bestie qua sotto ok ci sono ragazzi ci danno il saporino non è un problema scarafaggi tropi cose simili prova a parlare con un topolino ok ce l'ha mi faccio ma buongiorno gentilezza prima di tutto è il mister che si gira buongiorno topolino non ti preoccupare lo fa lo fa lo fa ogni tanto parla con il best ok mi chiedo ma siete qua da tanto ok c'è cibo si c'è cibo si poco ok ma sareste disposti ad andarvene no giustamente perché qua potrebbe venirci a vivere un orso ok ecco neanche intimidazione ok nel senso lo so da quando è un predatore naturale dei topi vabbè e da quando da quando un topo è nato e cresciuto in una cantina al concetto di orso sì sì no se vogliono mi trasformo in un ragno gigante li faccio spaventare scappano alla peggio ci proviamo dopo non c'è problema ok dico vabbè comunque ma vivete qua vicino vivete qua vicino beh qui allora vedete che i muri sono probabilmente forati un po' ovunque se io vi do tanto cibo alcuni muri tra l'altro ad esempio quello davanti a dove siete scesi come si vede anche nell'immagine sembrano anche essere mezzi crollati dalla terra cioè c'è proprio da rifare allora se io vi do tanto cibo voi potreste non darci fastidio ok ok abbiamo un paio tornerò col cibo io mi immagino i topi mi immagino i topi che ci fanno i dispetti nel senso perché ma abbiamo appena fatto si sta allagando la casa guardo gli altri faccio beh ho appena fatto un patto con i topi che fatto hai fatto scusate gli spengono le torce gli diamo un po' di formaggio e si deve andare con i giorni cioè o meglio sta magari cioè dovremmo ristrutturare per impedirgli di entrare ma dandogli del cibo potremmo evitare che poi provino a tornare a rifare casino sentite che le bottole da cui siete entrati si chiudono di scatto oh ah siamo tutti giù? si beh incoglio la botola per vedere se diciamo a riaprirla ok si 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 e se è solo chiusa ah ho fatto paura controlliamo i cardini per vedere se è il meccano cioè la riapro e la fisso fai un tiro per i cardini allora no assolutamente anche perché quando la apri la apri del tutto cioè cadono a terra le ante quindi non possono chiudersi va contro la gravità il fatto che si chiudano guarda e per l'oreatura vai è il mister tu hai detto che hai studiato certo ma che tipo di studi la magia mio caro amico la magia quindi puoi capire se qua c'è qualcosa di magico ho fatto il dumps esatto quello sono io tra l'altro che sto per dirgli l'isef ho fatto l'isef eh cilis beh palesemente cilis lisef non riddams eh quindi puoi provare a percepire una visto che volo vole con noi tra l'altro ok il volo ci ha detto che ha comprato la taverna del teschio di troll perché pensava fosse infestata e quindi ah no scusate gliel'avevo dato luce al mister ah allora ha acceso una luce ho visto che tu sei mago potresti provare a capire se boh c'è una forza magica o qualcosa dice ok ah acceso la mister mi puoi accendere la luce sul e rimettere il dito lì sul dito mettimi luce sul dito no ti dice la posso mettere sulla tua persona non puoi metterla sul dito eh no puoi puntare l'unghia no no ok mi accontento eccoci luce eeeh e luce fu e luce fu e cipè eh sì beh ovviamente posso provare a capire se c'è qualcosa di di magico certo cioè se c'è un problema potresti provare se no potrei farlo io come preferisci sì trovate un attimino a guardare e dà delle dittate sul bancone capisco non ho sentito tirare e veni inrollato un dado quindi non ho paura di cosa il mister abbia fatto no no beh ha tirato un dado ah ok ok non l'hai sentito ma ha tirato un dado quando è così cosa hai capito qualcosa il mister beh o qui c'è un mago molto molto bravo o non c'è un mago prestidigitatore ho capito perdonatemi il mister apprezzo moltissimo la la tua capacità di investigazione ma non non sapevate che si dice che fosse maledetta tipo infestata sì 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 però è quello chiedevano riuscissimo ah beh i fantasmi non è magia come scusate i fantasmi non sono magia non ci capiscono la micchia cos'è arcano in termini di religione religione pardon non ci capisco una soppa io direi potrei lanciare l'individuazione del magico ma credo che non ci aiuterebbe magari se non fossero fantasmi senti io la lancio io lancio l'individuazione del magico ok lo lanci come rituale fino a 10 minuti l'individuazione del magico può essere lanciato come rituale cioè allora i ritual casting gli incantesimi come rituali possono essere usati aspetta fai un attimo controllare se la puoi lanciare come rituale sì c'è la r di rituale in pratica tu ti prendi del tempo parecchio tempo tipo mezz'oretta buona per lanciare l'incantesimo con calma facendo piano piano i cerchi arcani usando i materiali tracciando glifi e poi esegui la magia senza spendere energia magica perché hai impiegato tempo a farlo ok non tutte le magie possono essere lasciate così molto poche ma in questo modo non spendi slot incantesimo ah ok quindi se mi prendo il tempo invece di usare l'azione esatto non uso lo slot beh allora sì ma non spendi tipo dei soldi per farlo in direzione del magico non ha materiali necessari ok perfetto allora mi prendo beh adesso esploriamo poi cioè se si trova in un secondo piano possiamo far fare una perizia a un chierico e dopo non c'è problema se si parla di maledizioni ma diamo un'occhiata a tutto poi poi mi metto a fare un rituale per controllare io ora nel dubbio facciamo così entrano tutti e uno sta fuori dalle singole porte che c'è dietro no dobbiamo lui c'è le scale sono all'esterno quindi dobbiamo uscire ma quella porta lì non l'abbiamo vista ah quella porta lì dalla planimetria la porta che c'è dietro la botola è la cucina ah in che condizione è non c'è più è vero non è tutto vuoto perché non avevo voglia di metterci le cose perché non c'è più niente c'è più un cazzo c'è una porta che porta l'esterno provo a uscire da quella si esce ok comunque Chilis sti cazzo di top li amazziamo tutti piano piano non è che passiamo all'ispezione di Gen facendo gli accordi con i top esatto via uno via l'altro giorno dopo li canziamo senza ucciderli mentre mentre state uscendo mentre state uscendo quello più indietro nella fila che immagino sei Chilis sì esatto Chilis ti vola un boccale nella schiena aia non ti fa male semplicemente ti dà fastidio cioè lo senti è stato più lo spavento che il dolore più lo spavento che succede Chilis? è arrivato qualcosa nel coppino cioè che senso? è questo tiro sul boccale ti volate un boccale addosso ragazzi abbiamo capito cosa c'è qua dentro provo le fine è perizia mi metto allora dai a sto punto è troppo evidente che c'è qualcosa che non va mi prendo il mio tempo per fare tutti i miei rituali e tra mezz'oretta vi dico se scopri io andrei al secondo piano se no qua perché qua dentro non ci voglio più stare per un po' andiamo su sto solo nella stanza a fare ma no ma aspetta no il mister rimane con te nel senso ok il mister ti prego fammi compagnia che ho un po' di paura eh ma su possiamo provare anche vabbè vediamo intanto andiamo su andiamo su chilis ok allora mentre l'unchiling mentre pepare il rituale e e il mister estrae una spada e si mette con lo scudo vicino a te pepare i boccali infatti mentre lo fai nella mezz'oretta un altro boccale vi vola e quindi chilis e con minori lasciate stare e ve ne andate su sì io lì dentro non c'è e io non ce lo faccio andare da solo sopra cinza d'accordo allora astruzzo ti giuro che non tocchiamo nulla fremo è nostra cioè non è che sì in effetti vabbè ma non per dire non faccio a casinio appena che mi prendo la planimetria first floor eccolo qua allora il primo piano una volta era quello adibito a second floor second floor è quello base stavo per dire si vede che in inglese perché il piano terra lo chiamano first floor c'è quella che veniva chiamata la 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 sala comune che è ok esatto che è quella dove siete voi adesso poi c'era una sorta di denominata cantina anche se è al primo piano probabilmente è lo luogo di ritrovo e sotto ci sono un corridoio e delle stanze da letto letti sono in condizione di essere è vuota è completamente vuota oltre quello mentre mettete il piede nella common room quindi appena aperta la porta sentite le assi scricchiolare in maniera molto poco molto poco bella io sono sotto e vedo esatto quanto pesano i tuoi amici poco vero ci sono pesata una mazza l'altro non gli ho se non l'ha mangiato troppo pesante se ci cade solo un piano di palazzo non moriamo io faccio preferirei di nuovo si sta ancora levitando sono ancora lì che sono a mezz'aria quindi sento solo quindi ti sta trascinando lui mi sta tenendo per la mano mi sta trascinando tipo palloncino in effetti è totale perché nel senso se lui levita io peso 20 kg è come tirasse su un palloncino si portasse dietro un palloncino dovremmo riuscire abbastanza a vagare senza far esplodere stiamo portando dietro un palloncino voglio un palloncino a forma di scena Kubinoris mentre appunto stai scricchiolando molto camminando al primo piano inizia a sentire un rumore tipo tipo una campanella è pronto allora io mi fermo metto le mani sui fianchi allora è effettivamente un suono che hai già sentito che tutti avete già sentito ah cioè non lo in questo momento Fremmon e il minister non lo stanno sentendo ma voi due l'avete già sentito si è un suono è in teoria il suono che che fa anche Durnan la sua taverna quando deve chiudere la taverna ok è la campanellina che dice che sta per chiudere io ti metto le mani sui fianchi e faccio allora ascoltami in tutta amicizia questo posto l'abbiamo comprato ma vogliamo quindi non possiamo andarceli però possiamo essere amici però possiamo andarceli se vuoi possiamo parlare un attimo siamo delle brave persone ok no 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 non credo tenga risposta ti volò un piatto e faccio ok ti manca però io mi tuffo faccio due nuotate a rana e schivo e faccio ascoltare quindi immagino che il comune lo capisci il punto è noi siamo vivi tu sei non vivo non vivo non so se non so il tuo sesso quanto fa Mr. Bean il raggio è vero diciamo potremmo tutti in qualche modo accordarci immagino tu voglio ci sia qualcosa che tu possa volere e senti di nuovo da sto giro senti un altro rumore come se venisse spillato qualcosa da da un barile frevole la birra allora se vuoi che questo posto diventi di nuovo una taverna apro la porta davanti a me e faccio poi chiudere la porta ok la porta si chiude molto forte tanto forte che la porta si spacca ecco ciao porta è diventato un open space vabbè ho capito raga però ci sto provando a parlare questa si spacca casa su questa quella si spacca casa sua però ha risposto giù ha detto di sì quindi vuoi che questo posto diventi una taverna batti una volta per sì due volte per no no non non senti una risposta posso sapere almeno se sei uomo o donna così posso parlarti in modo corretto una volta per uomo una volta per donna due volte per donna scusa uomo ok non ci sono risposte però cosa non sta rispondendo ah no che ho sentito toc pensavo fossi tu che avessi fatto toc chi è che ha bussato infatti si fa di discarci e batti su maria supercazzolato dunque ok quindi vuoi che questo posto diventi una taverna bene e anche il nostro interesse è farla tornare una taverna ok fre non ti rispondo no fre scusa è kuminoris vabbè fre lo puoi dire lo stesso credo vedi kuminoris kuminoris vicino a te sulla polvere che c'è per terra si inizia a disegnarsi una riga che punta verso la porta delle scale ok devo andarmene no mi piace che ti rispondi adesso eh mi piace che ti sia dato la risposta adesso no devo andarmene un'altra linea si disegna a fianco all'altra secondo me si tu guardi faccio faccio spallucce e vado al piano di sotto fre no e comincia a fluttuare non ce la fa almeno pigiami qua non ci voglio stare solo mi tiro a civis ovviamente grazie ormai è guerra ok c'è guerra in amicizia tanto ho capito che più che altro mi sembra una persona testarda che litiga come una persona ancora più testarda cioè non mi sembra ci sia grande anche la che può fare il cacazzimetto quando vuole pago un pago un chieri che lo faccio esorcizzare se non vedrò più meglio cioè abbiamo il coltello dalla parte del manico noi è solo meglio e ok sale appena di sopra e tirami un riflessi come in oris ok riflessi tiro salvezza su destrezza perdonami ah su destrezza ok non mi ricordavo character sheet ok diciamo che teniamo teniamo buono il primo come faccio a togliere il coso di tirare con vantaggio ah te lo levo la spieda in cima forse no perché mi sembra che non gliela proprio impostata in quel modo si finisce nel character sheet sopra con scritto tipo advantage eh no perché non ce l'ha ora ce l'ha ok ok ti sto vedendo fare cose ok grazie dunque ha tirato un 19 ha tirato un 19 vedi che nel momento in cui metti un piede eh al terzo piano il pavimento davanti a te si spezza big ti riesce a saltare indietro di nuovo sulle scale ma ecco il cazzo che cancello una pedina ci ho messo un anno no si 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 e non rompo una pedina del pavimento parca tutto bene ma sei rotto solo da te ah fre io sto bene qua e il mister si gira devi tenerti al massimo rimanevi appeso infatti guardami quanto abbiamo ancora per lanciare il canteo eh no ancora ok c'è ancora lì che sta sta vedi che ti mette ti mette mette il suo scudo sopra la tua testa grazie il mister ascolta intanto posso sapere il tuo nome non risponde ok guardiamo di sotto fremmono sta disegnando mandala a forma di uccelli ovunque mi stai dicendo io voglio capire come comunicare con sto esso cioè in realtà immagino abbia una lingua che però sarà spirituale vero posso provare un tiro su conoscenze proprio per capire che lingua potrebbe parlare questa creatura beh il comune sembra capirlo perché se ti ha risposto sembra capirlo però non mi risponde puoi farmi un tiro di natura perché comunque i fantasmi sono vagamente cose naturali no vabbè ah ok no se no ti faccio proprio un tiro ah no aspetta te fai parte del clano di smeraldo sì sì fammi un tiro di intelligenza allora normale ecco cos'è è un rituale di gruppo ho capito due e dopo boh boh ma è la colitta 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 vabbè e butto un'occhiatina guarda proprio solo con la testa cioè qua con la dita di ristrutturazione e scendo cilis sopra cose pazze cose pazze cilis hai presente le due dita di polvere sotto sì sopra ce ne sono quattro oh pesa tra l'altro ecco perché è ancora all'altro eh sì sì era proprio un ammasso di polvere ci sono anche i soppalchini non so se avete notato quanto sono carini infatti i terrazzetti ah che belli ecco i balconcini non ci vado perché ci tenga la mia vita però va bene scendo cioè nel senso io parlo al singolare perché ho capito che cilis me lo devo trascinare dietro tipo palloncino a David certo diciamo che non è che potete esplorare più molto quindi adesso chiudo un attimo lo lascio mentre siamo all'aria lascio il braccio a cilis vola in alto no no perché posso decidere di salire e scendere se non lo riprendevo al volo però mi immagino è tutta roba mia no farebbe molto ridere mi mollassi e volassi via con un palloncino poi puoi far finta che sta capitando sì potevo far finta infatti prima ha detto no 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 e poi tranne giù anche perché io sono un vetro e niente quindi te non riesco ad anche ricominci a saltare vedi che salta e io dico no scherzavo scherzo scherzo scherzone scherzone scendo piano piano ok ma no di un infarto mi hai fatto prendere cilis eh 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 è sono un burlone si sa vedi che sei bravo nelle interazioni sociali è una celia dalle mie parti si fanno questi scherzoni è una celia ah ok sentiamo detto bello raga c'è uno spirito maschile maschile che vuole tu comunque no non era hai appena assunto il suo genio non mi hai risposto è vero è vero è vero è vero ma comunque c'è uno spirito voi scendete e vedete e il mistero che ballano è vero mentre scendiamo e parliamo jacomini adesso si sente là in fondo oh ma e il mister che grida sensual oh ma che menta sensual ormai il mister si è tolto l'armatura e ha petto nudo che balla ma quindi l'avesse fatto la shad sarebbe stata la dancing lizard quella della ghiifina no comunque faccio beh c'è uno spirito che infesta il posto ha detto cioè per ora ci ha dato due scelte non ho capito probabilmente vuole che riapriamo la taverna da una parte dall'altra non ho capito se ci ha chiesto di andarci dal terzo dal secondo piano perché è pericolante o perché ci vuole via fuori dai coglioni non l'ho capita però di base vuole che riapriamo la taverna comunque io direi che ci serve un chierico per capire un attimino di parlare con questo spirito fammi finire il rituale vediamo se scopre qualcosa io io non l'ho capita così ma è bello l'idea che questo spirito sia un ubriacone quindi sono d'accordo con Comino Fremun finisci il tempo per lanciare il rituale cioè nel senso è scaduto il tempo basta si fa da capo lanci in riteazione del magico e davanti a te praticamente si apre un cono veramente funziona in riteazione del magico un cono davanti a te vedi tutto quello che c'è di visibile o invisibile che ha a che fare con l'arcano o la magia e anche volendo ha anche un funzionamento lato di vedere anche alcune creature invisibili ok mentre diciamo che fai un po' tipo sonar e ispezioni tutto il piano terra ragazzi abbiamo dieci minuti quindi andiamo di sveglare lo bene c'è tipo Rapsili e Fremun tipo randomante con le braccia larghe ok il tuo cono di percezione del magico percepisci solo te quindi solo tu vedi non è che illumini a tutti a un certo punto si sofferma su una figura umanoide che sta camminando lungo appunto il piano terra della taverna camminando oddio sta fluttuando più che altro che sembrerebbe appunto essere un fantasma sono io sono io che sto ah no ha finito la mia levitazione è finita fre ecco perché ecco perché non ci sentiva ecco perché non ci rispondeva perché aveva un piano sbagliato stavamo parlando ma voi non lo vedete ma non ce l'hai detto ve lo stavo provando a dire ah scusa ragazzi copia e incolla taglia e incoglia al discorso taglia e incoglia al discorso qualcosa buongiorno può sentirmi si gira verso di te e ti fa cenno di sì con la testa avvio la migliota che lo facesse il dramatic chipmunk si gira di colpo e assieme ai miei compagni siamo entrati in possesso di questa magione so che non sembra particolarmente contento di questa notizia posso supporlo da ti fissa diciamo che gli occhi non ci sono sono orbite scavate anche la la configurazione corporea è molto diafana cioè non è proprio chiarissimo cioè il fantasma non è proprio corporeo è molto ondulante ti sembrerebbe essere il fantasma comunque di umanoide maschio femmina bo ecco sembra avere tipo una sorta di orecchia punta perché vedi qualcosa allungarsi dalla testa e dall'altezza non è un ognomo quindi orecchia punta delle razze umanoide alte non è che ce ne siano tantissime mostro le orecchie che magari diciamo le orecchie dei mezzelfi non è che siano così punte sono un po' più lunghe e basta stiamo parlando in elfico ok vedi che è sorpreso effettivamente di sentire parlare in elfico cioè ti capisce ok 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 che cazzo sta dicendo guarda qua io penso sia elfico non lo parlo ma ho capito il suono la musicalità i gesti ma si dico sempre in elfico le nostre intenzioni sono quelle di riportare la magione diciamo ai suoi tempi migliori e perché no devi strutturare la taverna di diciamo di cominciare a fare io da dietro molto lontano dico veniamo in pace beh oddio cilis ah no te non sei a mezzelfo cilis no 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 cioè perché nel senso ci tratta con ostilità non abbiamo cattive intenzioni vedi che la forma no vedi che la forma diventa sempre un po' più chiara mentre prima sembrava proprio un fantasma abbastanza intimidatorio man mano che gli parli sembra tornare a essere più o meno un umanoide e vedi che i vestiti inizia a intravedere i vestiti che ha i vestiti sono un una sorta di lungo grembiule e le maniche corte ok cioè potrebbe essere un oste potrebbe essere un cuoco o un oste si ok lavoravi nella taverna suppongo magari eri il proprietario ti facendo di sia la prima di no alla seconda ok se nel senso è tuo interesse di fare il piacere di vedere la restaurata noi è quello che intendiamo fare e cioè spero di ottenere una relazione positiva con te anche perché altrimenti nel senso non so i miei compagni tutto in alfigo così non capisco capisco cazzo adesso i compagni che che intenzioni possono avere credo possono chiamare anche dei chierici per diciamo liberarsi della tua presenza ma non mi sembri una cattiva persona per questo ti direi se il tuo obiettivo è ripristinare riportare la tavola agli antichi fasti noi siamo siamo dalla tua parte ok e vedi che indica un muro e sul muro sempre tracciata con la polvere appare in elfico la parola vedremo capisco le sue preoccupazioni nel senso ha solo la mia parola a cui affidarsi quindi fremo chiedigli se hai dei per il nome c'è scritto scemo chi legge qual è il nome della locanda ti scriverò anche il altro scritto vedremo ok vedremo io le do la mia parola che ci impegneremo a ristaurare questa la maggiore e a riaprire la locanda intanto mi giro raga apriamo la locanda certo premo chiedigli anche se chiedigli anche in generale se possiamo fare qualcosa per aiutarlo cioè comunque noi si ambivi lui è morto magari un corpo quelle cose lì hai qualche desiderio possiamo aiutarti no non puoi dargli un corpo però dico se ambivi lui è morto magari gli spiriti possono avere più sollievo in qualche modo cioè non mi può parlare proprio giusto scrivere qualcosa hai qualche richiesta in particolare possiamo aiutarti a sordire qualche tuo desiderio vedi che allarga le braccia e fa tipo un giro su se stesso vuoi della musica? no vuole giocare a giro giro tondo con te ah vuoi che che sistemiamo tutto era quello? dicevi sì ok ok lo faremo siamo qui per questo era il nostro unico principale obiettivo in questo momento rindica il muro cosa? rindica il muro ok vedremo ok ti do la mia parola di Fremun il bardo mezzelfo che riporterò questa locanda agli antichi fasti e suonerò per te ti dedicherò una canzone sarà una delle canzoni che suonerò in questa tabella Fremun ok ti chiedi ancora un'ultima cosa non ti sta tirando cose direi che sta andando bene Fremun chiedigli un'altra cosa che gli se c'è per casa se c'è qualche posto luogo o cosa della taverna che non dobbiamo toccare o rompere o cose così c'è un confantaso magari si arrabbia se tipo ristrutturiamo delle quali c'è se spacchiamo qualcosa è casa sua ok la nostra intenzione è ripristinare tutta la magione c'è qualche zona pericolosa off limit che non possiamo toccare ti fa dicendo di sì con la testa e indica verso sopra di sé e ti fa no con la mano cioè dal piano sopra in su non possiamo toccarla vorremmo anche dormire anche a me si è arrabbiato provà a chiedergli dopo che ristrutturiamo il primo piano se ci dà fiducia per vedere quel viso ok ti faccio in notizia ok ok va bene va bene va bene d'altronde non abbiamo grandi mezzi finanziari quindi partiremo step by step quindi si dorme sul bancone ragazzi partiamo ristaurando la locanda e se sarà soddisfatto possiamo poi cominciare a muoverci verso i piani superiori quindi si dormiamo sul bancone io dormo a casa mia finché sono due mani finché il mister mi guarda e si io dormirei a casa anch'io io ho il mio alloggio cioè nel senso io ho un po' ho un po' di spazio se qualcuno vuole venire da me io se devo tornare a casa ci mettiamo due mesi quindi ora ci divertiamo io ho due o tre idee fuori di va bene allora ti diamo ti do la mia parola ragazzi gli diamo la nostra parola certo certo ah chiedigli scusa se sono salito al terzo piano non avevo capito parola di lupetto ti diamo la nostra parola e ci impegneremo a mantenerla io lo guardo guardo nella direzione dove vedo Fremon più o meno poi faccio scusa se sono salito al terzo piano sembra guardare male il personaggio la figura di Pumino ti chiede scusa ma lui parla anche comune cioè ha capito anche prima che gli parlavi il comune però parliamo in elfico perché si astronzi è un tipo particolare ma vedrai che anche lui mantenera la parola data chiede anche scusa non sapeva che non ti andasse bene che visitassimo i piani superiori ok non mi ha capito posso tenerlo ancora a lungo guardo Cilis con l'occhio di lo esorcizziamo ma no non è vero gli voglio già bene in realtà è vero come si chiama il tuo nome dici il tuo nome se vuoi in questo momento sei in sventura e non mi ricordo quale scena oggi no Jim Carrey quando cerca di convincere la tizia in settimana di tornare con lui il tuo nome e vedi che ti indica fuori dalla dalla taverna che ci sono alcune foglie che cadono autunno ha molto più senso se stessimo giocando in inglese cosa sarebbe leaf fallen leaf ti fa cenno di sì con la testa ah fallen leaf si chiama leaf leaf e basta no si chiama abscissione si chiama abscissione che poi si scrive in un altro modo ma l'assonanza è quella lì io lo chiamerò abscissione ma perché abscissione cosa dice ok e l'incantesimo l'incantesimo fizza non l'hai chiesto che occhi aveva colore degli occhi non ce l'aveva ci risbatte un affanculo con scavola cioè però dai siamo partiti col piede giusto direi e mister ti guarda ti dà un cartone sulla freccia è bravo il menestrello ma il menestrello non cazzo facci piano ti ho detto devi venire ti invito a casa mia facciamo un po' di palestra bisogna un po' di mettere un po' di muscoli su quella carne una palestra pesi tutta tua no beh sollevo il letto ok è grosso ragazzi grazie forse non ho descritto abbastanza quanto sia grosso fisicamente mi sa grosso preferisco dedicarmi alla poesia all'arte ma credo che c'è anche tempo per la poesia all'arte io proporrei una cosa io mi sono diplomato all'accademia di magia mentre facevo gambe sollevando un pezzo del letto e leggevo i libri a proposito di accademia di magia è il mister sì noi diciamo che abbiamo trovato cioè aspetta intanto la tua etica oscilla sul ci sta a fare soldi in modo un po' sbarazzino beh dipende cosa intendi come sbarazzino nei limiti della legge ma anche non nei limiti cioè ok allora per finanziare basta non far male alla gente mi sembra bomba per risparmiare la nostra opera di ristrutturazione per ristrutturare no ecco le bombe no solo i perdenti usano le droghe pensavamo di come dire raccimolare qualche soldino vendendo un bene di valore di un certo spessore che abbiamo trovato nella nostra cosa dell'aiutare volo e tiro fuori il manuale di Grumshar il libro il grimorio il grimorio il manuale adesso al di là di tutto come può almeno sapere che è il grimorio di un mago quello beh lanciava magia si quindi lo faccio è il grimorio il mio primo grimorio c'è scritto con le stelline ok ok è il grimorio di un mago che abbiamo sconfitto pensavamo potenzialmente di venderlo a meno che però giustamente non ci capiamo niente oh beh questa è materia mia lascia fare a me eh già glielo do ok prende il grimorio e e lo apre ah si chiama Pietro no si chiama grimorio ragazzo si viene dall'altra parte si mette a leggere dice beh mi aspettavo è un grimorio abbastanza standard più o meno tutti gli studenti dell'accademia ne hanno uno simile non ha niente di particolarmente sconvolgente ma è pur sempre un grimorio magico un grimorio magico anche vuoto vale un sacco di soldi e come si potrebbe piazzare sul mercato un grimorio magico beh si può andare a vendere una libreria si può andare a vendere l'accademia si può vendere a un privato ah l'accademia anche lo com beh diciamo che non se ne fanno molto degli incantesimi già scritti ma e continuo a sfogliarlo diciamo che ci sono incantesimi molto standard quindi potrebbe tranquillamente essere un manuale di addestramento o un manuale un grimorio un grimorio per un neomago allora io farei una cosa cioè ci sono magie che io non conosco cioè so leggere ma non conosco ma adesso voi sono tue quelle ma no non so come funzioni un mago quindi glielo dico gli dice sì grazie ecco ad esempio far un altro metodo di guadagno con un grimorio è far copiare incantesimi all'interno del grimorio da qualcuno fanno pagare molto anche di solito i manchi per questa cosa questo grimorio non ne vale nel senso che ripeto sono magie molto normali che proveresti in qualsiasi grimorio però potremmo fare una sorta di strategia a tenaglia nel senso tu puoi chiedere quanto eventualmente ti prenderebbero in accademia per quanto arrivare eventuali librerie so a chi chiedere e nel nostro giro magari con i mercanti beh guardo frebum e cidi faccio siete penso voi i migliori a commerciare e vedere chi ce lo compra di più glielo vendiamo io ho otto di carisma dice beh qui ci sono ci sono sei incantesimi di primo livello perché è un concetto che esiste all'interno del mondo che gli incantesimi sono di un tal livello ok che appunto non è come slot eccetera è proprio come il livello di difficoltà dell'essere lanciati ok quindi questi qua sono un'interno del team che io saprei usare ok ma appunto e vedi che tira fuori quel piccolo ribriccino che ha al fianco è molto più piccolo del grimorio di Grunschar che è molto grosso tutto placcato in metallo con tipo in pelle rovinata e lui ha questo tacquino tipo grosso così lo tira fuori e inizia a scorrere dice beh sì e ti fa vedere tipo una pagina cioè due facciate del suo primorio e due facciate di quello di Grunschar e dice beh questo ad esempio è lo stesso incantesimo sono simili no cazzo anche visivamente sono completamente diversi sì sì proprio non c'entra una minchia ok faccio beh però tu sapresti credo descrivere benissimo il grimorio all'accademia quindi se lo posso riprendere meno lo posso far vedere a chi devo chiederne il valore perché se tu lo descrivi è fatta io mi sono giocato oh beh sì certo non è un problema sono rimetti in sacco ragazzi io avevo anche un'idea nel senso Renar ha mostrato interesse a quanto pare nel nostro quiz cioè si è preso carico lui delle tasse giusto da quanto ho capito a quanto pare sì sì secondo me beh prima dovremmo fare un diciamo cominciare a capire che tipo di spese dovremmo si infatti vorrei fare un check comunque in comune per capire se è davvero tutto a posto perché non mi fido minimamente della volontà allora in teoria i documenti che abbiamo firmato sono quelli che servono per acquisire una proprietà il prossimo passo sarebbe andare a chiedere a una città dei carpintieri quindi una città dei carpintieri per fare un preventivo di quanto possa costare ristrutturare tutto il piano e sì io vorrei capire quali sono i requisiti fremium per passare l'ispezione perché ok che affaltiamo i carpintieri sistemare però organizzare in maniera tale che sia una taverna funzionante esatto una volta che abbiamo questo preventivo mi frequento cioè andrei a chiedere magari a Renar se è interessato a sponsorizzarci in qualche modo la gilda dei barman tipo se ci può la gilda dei barman a quel punto dobbiamo confrontarci con la gilda di Trenieri non lo so esiste per poter entrare a far parte della gilda e poi chiedere in comune la licenza immaginano per poter vendere però è qua che Renar potenzialmente entra in gioco esatto perché stavo pensando potremmo portarcelo dietro così almeno magari lui ci può mettere una parola su perché magari credo che ci porta solo a mettere i soldi su questo anche per quest'atto non è che ci ha messo la fila però lui potrebbe eh no però lui potrebbe fare un affidativo nel quale dice che sarebbe che è disposto a garantie dal punto di vista economico se noi dovessimo essere insolventi o anche solo da un punto di vista una lettera di raccomandazione da accompagnare alla gilda insieme alla nostra candidatura immagino che presentare la lettera di un nobile insieme alla nostra candidatura sì sì ma per la gilda va bene sto parlando per la gilda del permesso in comune se mi interessa ci sono 44 gilde diverse all'interno quante 44 no sì sì quindi dico sono tutte dentro uno stesso palazzo vero tutte diverse no oh fuck quindi io direi comune ma di alcuna voi non ve ne frega una minchia cioè la gilda dei fabbricanti di selle sì 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 sono così solo per curiosità ci voglio andare soltanto per qui fa carino comune capire i requisiti per poter avere per cosa serve per l'ispezione appaltare i carpentieri e a quel punto renan per chiedere eventualmente dei soldi barra la lettera di affitto barra la fresca parte chiamiamolo giovanni che poi in realtà c'entra è una roba che l'ordine in questo caso non riconosce l'importo no vabbè per un pagamento ma l'ordinamento italiano non lo riconosce finalmente comunque è quello andare a chiedere i soldi barra la lettera di raccomandazione e a quel punto la gilda nel mentre vi direi io vado in comune se non c'è problema tanto so come muovermi ci metto un'altra immagino perché abbiamo dormito fino a mezzogiorno io mi faccio una pisa è il primo pomeriggio sarà un tipo di due e mezza tre sarà visto che io lo comprova nel senso da quanto ne so cioè questo è il quartiere degli artigiani dei commercianti e da quello che mi hanno detto mi ha detto volo qui intorno ci sono un sacco di botteghe che hanno rappresentanti all'interno delle gilde sì ma infatti io non so un po' possiamo tipo andare a uscire uscire dalla porta andare nella porta davanti e probabilmente parlare con una gilda andiamo andiamo esco dalla porta gridando capitalismo sì sì ma infatti per quello vi dico io vado in comune andiamo e voi intanto fate questo volevo anche dire un'altra cosa a me vorrebbe piacere poi andare al tempio di di lasciad per informarmi se non funziona ah non ci ho praticamente legato ma l'ho visto davanti ai miei occhi probabilmente saremo molti noi al posto su sì ma possiamo andare tranquillamente in serata non c'è problema ok però dico visto che no posso andare per i cazzi miei se non volete ma no tu ci servis c'è rosario prima nessuno va a rosario comunque quindi se a voi va bene se a voi va bene io vado in comune mentre voi fate amicizia che tanto non vi servo a fare amicizia io e chiedevi andare a parlare io voglio andare a parlare all'enclave va bene va in comune noi andiamo che ricorzi ci sono nella video ciao beh non lo so andiamo a vedere sì 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 stiamo adesso usciamo allora uscendo da dalla porta vi condivido una mappa della strada del vicolo testi di troll ok ignorate i numeri non sono assolutamente indicativi di niente non dicono assolutamente gli edifici importanti e quelli che non contano un cazzo e assolutamente mi preoccupo e dicevo uscendo dal dal vostro edificio vedete che alcune vicino a a casa vostra a casa vostra a casa ma giovane eccetera eccetera sono case appunto private mentre arrivavate da da dove siete incontrati con volo avevate notato un'insegna di un martello e una sega incrociate poco dietro casa vostra andiamo dei compagni andiamo ciao per dire la stessa fine sì andiamo possiamo associare il simbolo a qualsiasi cioè a che tipo di impresa anzi no perdonatemi l'insegna mi ero mi ero dimenticato l'insegna veramente è vuota tranne un enorme chiodo piantato ok cioè un chiodo fisico sì sì un chiodo grosso anche un chiodo fisso posso andiamo altrimenti non si batte chiodo a volte ti adoro a volte ti prende le ammazzate a chiodo ti scappaccio scusa e vi prego andiamo dai se no ci dobbiamo ricordare schiodo no non ci sta va a fare la porta schiaccia chiodo a fare la porta hai detto di vada non ci riesco non so dove allora suonano un campanellino come più o meno in tutte le attività commerciali e vedete che nella stanza principale di questo negozio c'è un'esposizione di tantissimi mobili e sopra sul soffitto che scende un goccino con un controsoffitto ci sono appesi appunto a di chiodo delle corde diversi archi balestre faretre praticamente qualsiasi cosa in legno è presente all'interno del salone e dopo pochi secondi che siete lì e vi guardate intorno scende da delle scale dietro a un bancone la figura di un mezzelfo di più o meno mezza età con capelli scuri più o meno che gli arrivano fino al collo abbastanza ondulati e con una barbetta con un pizzetto e la barba che gli arriva a collegarsi ai capelli buongiorno che vi sto inviando perché ho le foto di tutti i png di oh mio dio buongiorno sono dottor zinga no scusi zinga lei è un bell'uomo be mezzelfo sì no ma non bello quanto me dice oh talisolvanar felbranch per servirvi talisolvanar talisolvanar mi rifiuto felbranch fuori fuori dal personaggio mi rifiuto di scrivere il nome di questo personaggio nelle note andate fate voi è come un medicinale prendete due talisolvanar fuori dal basco proprio non ci provo niente chi dice buongiorno la conoscenza messerita di solla uomo della ah prego chiamatemi talli oh talli qua mi piace già ottimo talli ottimo tutto fatto a posto bene talli mi piace una persona alla mano volevamo informarci a quanto vedo il suo esercizio si occupa di qualsiasi cioè della creazione di qualsiasi oggetto in legno beh mi sembra un uomo di gusto e perspicace signore la domanda però sì uomo della gilda del legno ci dica come no sì sono membro della gilda dei carpentieri certo ok ah ok quindi non solo realizzazione di oggetti ma anche ristrutturazioni nel caso beh sì sono della gilda dei fabbricanti di archi e dei carpentieri ok quindi c'è anche il sottosegretario ma è cono senza budget la gilda degli archi col portafoglio scusate no no cono senza borsa è diverso scusate e invece quella di pellisti col portafoglio perché madonna quanto mi state sul cazzo bene ci servirebbe un preventivo beh sono qua anche per questo perché cosa siamo recentemente entrati in possesso della magione teschio di orco vorremmo i di troll ce l'ho quasi una volta che dico magione teschio di troll direi metterei sempre una musichetta tipo tipo frau blucher diciamo qualcuno finalmente ha ripreso quel vecchio rudere bene sono contento immagino perché ovviamente le porteremo un po' di lavoro da fare oh beh sì potrebbe portare un sacco di cose la ristrutturazione della taverna sì vorremmo riportare la taverna antichi fa se vi immagino tavoli bancone e spillatoio e se possibile anche se è un lavoro probabilmente più in pietra ripristinare lo scantinato diciamo che l'edificio è principalmente costruito in legno di conseguenza la gilda che se ne occupa per la maggior parte comunque che farà il lavoro più grosso è appunto la mia carpentieri riparatori di tetti eccetera eccetera e di conseguenza sempre normalmente sarebbe per una tariffa ma aprire la taverna devo dire che potrebbe tornare utile anche a noi e di conseguenza se volete posso occuparmi io del coordinamento con le altre gilde ok ottimo quindi puoi parlare con la gilda dei tavernieri per noi non per spaventare ecco no io mi posso occupare per quello che riguarda la parte costruttiva del del posto voi ovviamente dovreste parlare comunque con la gilda dei locandieri innanzitutto la gilda dei mescitori dei macellai degli erboristi dei medici a seconda di che cosa vorrete fare io mi occuperò appunto solo della parte come dire burocratica relativa alla costruzione vera e propria raga solo a me la gilda dei locandieri sembra tipo il boss finale me la sto immaginando come una roba terribile il grande ost gigantesco non lo so ve ne immagino super chiusa quindi fre secondo me dobbiamo prima andare dalla gilda dei tavernieri chiedergli cosa serve e poi tornare qua no beh se permettete una cioè l'approvazione della gilda dei tavernieri serve una volta che decidete di aprire ah ok prima semplicemente state ristrutturando una casa volevamo cominciare ad avere un presentivo per farci un'idea di che spese dovessimo beh dovrei vederla venga è proprio lì davanti lo sapete per un appuntamento cioè anche adesso per noi nel senso come perché no si mette un cappellino e e vi accompagna ovviamente bevono offrite di bere gratis non ci abbiamo da bere quando ce l'abbiamo è una grande idea no in realtà non sono in comune sì più o meno sto facendo un po' di scammate poi ne parliamo e si avvicina alla casa dice beh la magione è sempre stata intimidatoria e sicuramente di un gran valore storico e culturale è un peccato che sia caduta in disuso devo dire che solo vedendo l'esterno e vedete che comincia a girare anche intorno a tutta la magione c'è da rifare tanto ovviamente dipende anche da quanto vorrete fare e che cosa vorrete fare cioè volete riportarla esattamente come era prima quindi considerare porticati recensioni al momento sia ripristinare il piano terra e mettere in sicurezza il resto nel senso non vorremmo che cadesse in testa ok quindi diciamo una cosa senza fronzoli esterni ma che funzioni spella solida e dentro giusto vabbè nel senso a me Cilis non so te ma a me piacerebbe comunque avere una cosa bella sfarzosa cioè non vorrei una cosa molesta vorrei un lavoro fatto bene anche dal punto di vista estetico sì bisogna parlare con Reynard ma per il resto tanto non sono i nostri soldi non penso che non ci paga tutto vedremo nel senso cioè facciamo il preventivo massimo e poi paghiamo quello che che volevo dire sì è che cioè non vorremmo toccare i due piani superiori perché diciamo che al momento non possiamo non ci interessa e dal punto di vista ok non posso lavorare così e non io nel senso nessuno ma cioè nel senso io posso io posso anche mettervi riparare mettere in sicurezza a pieno terra ma se la casa sopra è pericolante non potete fare niente ma se facciamo tipo edilizia acrobatica tipo che che ci sistemate da fuori gli fuori sì i pavimenti che li sistemo i tetti che li sistema ma ma ci va bene il tetto sopra poi dopo a voi magari al comune no al comune no allora io non voglio farvi un lavoro che poi non vi fa aprire partirei step by step passo dopo passo partirei da una ristrutturazione interna del piano taverna ok quindi cioè cominciare ad avere anche se non apriamo subito però cominciare ad avere un locale taverna con tavoli bancone spiratoio queste cose qua e poi discuteremo dei passi successivi perché dobbiamo assicurarci di avere accesso ai piani superiori è una questione complicata sinceramente però sono piuttosto certo che una volta che il piano taverna è ben ristrutturato noi si possa proseguire con i lavori ok diciamo torna a finis quello che sto dicendo si hai capito cosa intendo magari dice diciamo che è un'opera molto grande comunque sono pare cioè sono comunque terrippi io per evitivo lo devo fare di tutto non posso fare il primo facciamo il primitivo completo e poi discutiamo magari posso entrare al piano terra almeno certo 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 pensavo fossimo entrati scusa no eravate fuori hai ragione ovviamente domanda contiene conta anche rifare le recinzioni cioè l'esterno sì sì quello che vi ha chiesto all'inizio volete solo la parte centrale funzionante oppure volete rifarla come era prima cioè tutta bene fuori mi piacerebbe averlo guarda dentro vedete che la sua faccia non è bella e dice beh come dire è da tirare giù tutto quasi nel senso qui bisogna rimettere proprio tutto dovremmo aveva anche una cantina se non sbaglio no sì ecco dovremmo cominciare a lavorare dalle cantine rifare un attimino le fondamenta e in modo da avere una base solida e poi iniziare a lavorare sul sul piano terra sicuramente è da rifare tutto vedete che inizia a tocchignare il legno e dice no legno è si può fare si può fare le fondamenta sono non sono flimmi cioè se tutta la casa è più o meno con questa qualità è da rifare tutto io vuoi fare un tiro di insight per capire se ci sta percolando con il vai ma Cilis ha visto il piano di sopra a crollare quindi secondo me sa che non ci prende per venti naturali allora Tali sembra essere molto onesto con voi cioè non sembra voler aggravare troppo la situazione perché effettivamente lo vedi da solo è cioè a un occhio non esperto sembra essere solo come dire leggermente fatiscente e non pulita probabilmente Tali sta venendo un sacco di cose che non gli piacciono da un punto di vista strutturale ho voluto controllare perché sai classico idraulico che ce la cambia un certo no no quella butta giù tutta la caldata diciamo che ti fa capire anche dai modi in cui del modo di fare dal tono di voce che sta usando ha degli interessi dietro quello che sta dicendo e quello che sta facendo ma non sembra il voler di come dire vendere peggio quello che è la casa quindi quindi va bene se si parte dalle fondamenta da sotto e poi si fa intanto il primo piano e se ne parla beh per forza nel senso dobbiamo procedere così per forza di cose altrimenti un piano crollerebbe sull'altro non si può a me sta bene cosa dici beh dovendo rifare tutto dovendo rifare la torre allora semplicemente per le licenze quindi per quanto riguarda l'assumere le gilde mettere tutte insieme far firmare i contratti e quindi si parla solo di questione burocratica quindi di bolli carte eccetera eccetera questi sono cifre che non dipendono da me non dipendono da non solo da me non dipendono da nessuna delle gilde sono proprio costi fissi servono almeno se più o meno mi sono fatto un'idea di quante gilde servano 200 dragoni 250 più probabile se invece parliamo della ristrutturazione vera e propria lì possiamo un attimino cercare di venirci incontro ma non credo di riuscire a scendere sotto i mille dragoni non io eh tra tutte le gilde quindi 250 di permessi e mille di ristrutturazione eh non c'è proprio spazio per un minimo di contrattazione su quei mille dragoni ti guarda ti dice diciamo può essere non con me che devo fare tutto il lavoro ma può essere che andando da tutte le altre gilde dovremmo chiamarne una buona ventina probabilmente potresti avere un pochino di sconto non so se ti convenga perché potresti anche peggiorare la situazione su quello mi sembra comunque sempre onesto nel suo parlare sì sì ti sta proprio dicendo com'è la situazione effettivamente cioè è una casa cioè un edificio del genere se venduto costa sui 20 30 mila dragoni comodo proprio mille per restaurarlo è pochissimo no infatti infatti pensavo molto peggio bene quindi per i scusa vai vai tranquilli una cosa mi ha colpito hai detto che potrebbe esserci degli interessi tutto sommato non solo tuoi ma anche di altra gente ovviamente tutta il vicolo tesco di troll via teschi di troll no vicolo teschi di troll avrebbe un interesse nel far riaprire una taverna all'interno della sua circoscrizione per il semplice fatto che la taverna porta molto più pubblico rispetto a qualsiasi altra attività commerciale e di conseguenza questo pubblico potrebbe decidere di passando davanti semplicemente agli altri attività fermarsi e comprare anche in altre attività quindi immagino che non solo io ma anche vapore l'acciaio la corona di corellon sicuramente avranno grandi interessi a darvi una mano per aprire ed è proprio con questi grandi interessi che vi dico mille dragoni ah gli interessi si riusciano a ottenere quei prezzi eh sì ok come che che stabilimenti hai citato vapore l'acciaio che sono i fabbri ok che praticamente hanno la 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 cucina davanti al mio negozio ok vabbè ma con quello ci parla lei ha detto ma per metterci d'accordo sui contratti sì certo ok perfetto perfetto diciamo che con un fabbro non avremo molto di cui parlare ma con l'altro sì perché sì potrebbe fare servono viti servono giunti non so se avete presente di quanto sia complicata la burocrazia ma se devo chiamare qualcuno per costruire delle viti o dei giunti devo chiamare un'altra gilda rispetto alla mia wow ecco wow eh bene c'è c'è volo volo qua intorno non c'è non c'è volo ok perfetto visto è considerato che se chiediamo volo non c'è e se andiamo ad arenar almeno abbiamo abbiamo due cifre in mano magari ci dà una mano cosa dice dobbiamo andare prima ad arenar con le cifre e quando devi parlare se non c'è e cosa scusami tanti talli e le trovo poi l'acciaio qual è l'altra la la corona di corellon è il negozio di Fala farmacisti e tra l'altro è l'unico altro edificio che ha una palazzina a tre piani il vostro è più in alto perché ha una soffitta però per il pagamento in che tempi deve venire nel senso tutto ah beh allora no beh potete pagare tranquillamente a fine lavori se no mi tengo a casa l'unica cosa i 250 dragoni vanno andati subito perché servono per far partire da noi ok al momento non abbiamo dicendo cioè abbiamo fatto un preventivo ah beh certo è un preventivo nel senso non mi aspettavo che aveste dietro anche perché vi guarda dice non mi sembra che abbia una cariola sicuramente potete sapere una lettera di cambio ma dubito che è venita un preventivo con una lettera di cambio già pronta certo certo tali grazie per il tuo il tuo preventivo ti facciamo sapere il mio consiglio certo non mi preoccupare tanto sono qua perfetto ciao caro ok ed esce da la locale mi ci ho reso Cilis e dico Cilis va bene cioè sono totalmente d'accordo con tutto quello che stavi dicendo ma preferirei non snocciolare il nome di Renar davanti a chi ci sta chiedendo soldi dire Renar è come dire guido in Italia no ok bene però nel senso non vorrei che venissero a sapere che nel caso in cui Renar approvasse mi dai soldi che venissero a dire mi chiama questa è una gallina da spennare e che allora ci facessero dei prezzi pazzeschi come se intelligente è vero hai ragione sono così intelligente in realtà però nel senso preferirei di no ecco però si concordo il nostro prossimo step dovrebbe essere parlare con Renar perché ah volevo fare una cosa voglio contare sti cazzo di soldi nello scrigno ok all'interno dello scrigno ci sono 16 monete d'oro 82 monete d'argento posso segnare io una tesoria condivisa in tutto quello che abbiamo faccio allora teso se la fai condivisa io ne ho 12 no no vabbè tenetevi ognuno le vostre questo che abbiamo trovato assieme si anara vabbè ok 16 vorrei ricordarti una cosa si dobbiamo ancora da ritirare una ricompensa tra l'altro noi eh si quella per aver fatto il ride e recuperato l'aria fortiva eh già miliosamente scordato però ci va detto 3-4 giorni quindi cioè 2-3 giorni con calma con calma però ricordiamocelo perché sono soli un giorno e mezzo è passato un giorno è passato si si ma infatti vabbè ma 16 monete d'oro poi 16 monete d'oro 82 monete d'argento e rullo di tamburi 250 250 monete di vabbè si va in banca a convertire e dopo me 200 50 dai ma quello va in banca e li fai trasformare in dragoni 2 vabbè vabbè intanto cioè in totale cosa è 16 più 8 16 24 sono 26 20 sono 26 monete d'oro e 7 d'argento per avere un'idea più ravissima mamma mia va bene Cili sei totalmente ragione mi ero scordato che dobbiamo riscattare una ricompensa cosa pensi dovremmo andare a far quello prima tanto cerchiamo di capire se i soldi ci sono oppure se dobbiamo suonare agli angoli delle strade per recuperare qualche moneta perché se no c'è cosa intendi dire il mister mi dice beh ragazzi se se voi pensate a ai mille dragoni io posso anticipare i 250 oh e la mia realità era 300 oh wow ok questo potrebbe essere un un ottimo aiuto si si ma voi avete mille dragoni per riparazione poi forse facciamo così dato che non è che se partono un giorno prima ci cambia tantissimo facci diciamo un attimo capire qual è la nostra risparmietà economica non vorremmo cioè naturalità se andiamo ad Arinar e invece di mille gli diciamo 999 secondo me è più propenso sai perché fa cioè io ho dieci monete d'oro quindi una la posso mettere nel senso suona meglio è meglio ti guarda dice a vederti di primo sguardo sembra una persona che sa quello che dice poi passa poi passa lo guardo lo guardo sorridendo grazie do una pacca sulla spalla e se ne va verso la casa di Rena è un eterno è un eterno bambino e vai verso la casa di Rena io voglio andare invece a chiederle i compensi ci dividiamo? non è ancora pronta ma andiamo da solo Cilis a chiedere i soldi a Rena ha detto tra quattro giorni stiamo vivendo tra quattro giorni e è passato la linea temporale nella mia testa cumino mi dice che cazzo stai facendo non prendo a Regis credo che non sia ancora non sia ancora l'ora ma io sono ancora presto per la recompensa perché mi sembra tra quattro giorni giusto? no no veramente ha detto uno barra due scusate allora no allora volete dovevano giusto valutare quanto era la recompensa allora si possiamo allora si se può andiamo va bene allora direi che la nostra prossima tappa è dirigerci al commissario alla sale di giustizia alla sale di giustizia andiamo andiamo le sale di giustizia sono a fianco del della zona dei templi ok sì possiamo poi fare tutto ciò per capire geograficamente il comune è sempre lì vicino è quello ah quindi io sono lì ah quindi ci troviamo lì se sei andato alle sale di giustizia sì in realtà aspetta però in realtà non è detto che io sia lì perché io vado in comune è giusto a ritirare un foglio e poi vado a fare altro in realtà però poi ne parliamo cioè fai fare proprio quindi no quindi non è detto no non so dipende cioè tu conta che io appunto tolto che prendo un foglio andrò a parlare a un rappresentante del mio enclave quindi se è sempre lì mi potrebbero trovare lì se è da un'altra parte no 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 l'enclave di smeralda è un'altra parte ok arrivate alle sale di giustizia come appuntate anche i vari templi dell'elenità e ve ne ho detto c'è abbastanza movimento come sempre alle sale di giustizia ok noi abbiamo come riferimento Yusuf Staget c'è un ufficio informativo aspetto alle informazioni beh sì entrando nelle sale di giustizia vedete che c'è un enorme via vai di guardie di capitani di un sacco di gente stranissima gente che a destra e a sinistra viene tipo alcuni portati via alcuni trasferiti in altre sale c'è molto casino e c'è un povero ragazzo abbastanza giovane al aprile dell'accoglienza scrive i degenerati ah no siamo anche noi dei degenerati niente che scherzavo guardiamoci c'è fila davanti a spettarlo o siamo noi primi c'è fila ovviamente come fai? vede che vi si sta avvicinando una guardia buongiorno possiamo essere avvicinati si avvicina il minster lo guarda si fa non è ammesso usare la magia all'interno delle sale di giustizia lo sa? no? sa non sono venuto molto spesso credendo no va bene va bene non voglio fare casino e stavi usando la magia il minster ah si scusate schiocca le dita e la donna la sparisce cioè si inizia si inizia a polverizzare il penopio tu sei un famiglio eh si è un famiglio ok scusate 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 tranquillo non lo sapevo wow gentilissima guardia volevamo chiedere siamo qui per scattare una ricompensa su dell'efortiva che abbiamo recuperato samika a chi ci possiamo rivolgere beh all'ufficio ricortiva e ricompensa che si trova che è proprio una guardia ok ok vado dritto mi compare davanti sono un sacco di uffici in quella direzione ti ha detto una direzione cardinale lui bene grazie te la ringrazio te la ringrazio per la comunità prego sta giocando frevum tutto 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 frevum perché fai ad andare vedere se c'è una scritta ufficio ricompense allora effettivamente dopo una buona quindicina ventina di minuti che girate tra porte uffici e scritte c'è un ufficio un ufficio appunto le furtive ricompense ok pensando cd sai sono stato molto stupido potevo giocare il mio nome di rena in quel caso e magari avrebbe fatto meno il galletto e il mister ti guarda e dice beh tu non sei rena no però c'è la ricompensa del fatto di scattare sotto suo nome perché capitano staggett aveva fatto tutto in maniera tale che noi non trasparissimo altrimenti beh allora non servirebbe rena prossimo staggett nel caso allora non era il caso chiedere di staggett intanto andiamo dall'ufficio io vi seguo vi guardo ah tra l'altro fremo chilis sapete entrambi questa è una notizia che che vi faccio trasparire il minster è il nome è un nome famosissimo all'interno del fogo terriams ovviamente non è lui non può essere lui perché il minster è uno dei più famosi arcimaghi della storia dei reami dimenticati conosciuto il minster il saggio il mister il perduto è uno dei appunto degli arcimaghi più famosi della storia dei reami ah ma il minster è un nome il minster sì io pensavo se è il staccato mister questo spagnolo no ha un cognome che è guerrero ma io pensavo non ce l'ha mai detto io è il mister penso fosse una roba ma neanche voi avete mai detto un cognome quindi lui il cognome non me l'ha detto penso fosse una roba latineggiana è il minster si chiama ok ci ho messo due ore a capire non c'è nessuno all'ufficio c'è la guardia basta gentilissima guardia saremo qui per riscattare una ricompensa su una riflutiva e a nome di Renard Avremberg e come nostro testimone in questo momento appena l'hai detto ho detto c'è qualcosa che manca taggett mentre stavi dicendo l'ho detto mi suona male questa cosa stavo giocando solitario sul computer palese ok sì ho una ricompensa a nome del Lord Neverember ci servirebbe Justus tragetto il capitano come intermediario perché lui sa che non abbiamo diritto di riscattare la ricompensa per Lord Neverember sorride lì dietro e sorride a 120 dei mi auguro di no perché questo è un documento ufficiale che reca la firma del capitano Staget e indica il beneficiario come Lord Neverember quindi o mi stai dicendo una cazzata o Staget ha fatto un documento falso o qualcuno di voi è Neverember o qualcuno di voi si sta spacciando per Neverember quali delle quattro opzioni? no 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 qual è la quarta? qualcuno di voi si sta spacciando per Neverember qual è la terza? qualcuno di voi è Neverember ah no 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 andrei a chiamare ah no non lo so ringraziamo per il suo servizio alla comunità torneremo con Lord Neverember che si fidi non sarà felice di quello che è successo però però è stasiato di ricevermi potremmo aver solo eh? potremmo aver solo non mi cognome è un tuo diritto è che si identifichi in Italia per quanto ne sa ma che stai dicendo cazzate ma sono sparicciati eh io mi giro gli faccio una faccia brutta guardi sono qua non si preoccupi quando tornate sono ancora qua perfetto ma fanno ste notizie il manager e mi ha visto che ti va a toccare io per un attimo ho visto il processo penale a capo di tutti e tre le alternatiche se questo face parca cazzibetto era finita ok uscite dall'ufficio a ricompensa non è che vediamo Staget per essere un po' troppo a cazzo di cane vedete Staget ma qui dovrebbe ammettere di aver fatto un documento falso Staget che è un problema infatti infatti ok da sto punto c'è il Cilist che andiamo potete magari cercare Staget quello potete farlo no dai andiamo così nel frattempo ci facciamo due conti con Renard che facciamo così fini sono quando si muove facciamoci ho fatto un tiro percentuale per vedere se potevate incontrare Staget mentre eravate all'interno dei dei cosi ho fatto 100 sul di 100 beccate Staget mentre state uscendo capicano tattore bellissimo piacere di rincontrarla ci puoi scontrate con ah buongiorno buongiorno eravamo proprio qua diciamo molto fortunatamente l'abbiamo incontrata ma eravamo qua per riscattare la ricompensa a nome si ricorda quando abbiamo suotato il la faccia di di set e quella di Staget problema è che cioè problema grazie alla sua enorme intuizione di fare tutto a nome di Renard e di Renard è che al momento non possiamo ritirare la ricompensa non è che potrebbe ritirare cioè non vogliamo comprometterla assolutamente quindi nel caso andiamo a prendere Renard a disposizione da solo per risparmiare tempo la trovo bene comunque vero? sapete che avevo contribuito alla città di Wotelip suotando un rifugio degli Xanata sì sono stato informato Grumshar è morto sono capite Grumshar eh avete un indirizzo a cui posso recapitare le cose? assolutamente sì la vicolo teschio di troll giusto? la locanda cioè il maggiore teschio di troll si è diventati possediamo quello stabile adesso tutte le fortune a chi se le merita e non vogliamo compromettere cioè capitano stagiot assolutamente se è un problema torniamo con Renar che ci vede no beh spero che non siete andati a chiedere la ricompensa pretendendo che vi foste data non essendo Renar no abbiamo chiesto e basta ah poker face cioè non ci siamo spacciati per Renar assolutamente abbiamo chiesto come beh immagino perché se no non sareste qui abbiamo chiesto come funzionava perché noi io non sono del posto non so neanche neanche gli altri facciamo così sì dato che credo che abbiate fatto molto casino adesso andiamo tutti insieme all'ufficio ci scusiamo con l'addetto lo paghiamo e lui ci darà la ricompensa ok ma noi abbiamo solo chiesto va bene va bene va bene va bene abbiamo solo chiesto mi portano via mi portate là a me ti ha messo due reati lo senti che Stagia sta trattenendo proprio la la cattiveria però egli vuole uscire a prendervi a schiaffi va bene ma noi abbiamo solo chiesto continuo ad amore il cazzo adesso è il momento in cui seguiamo il consiglio di chi ne sa più di c'è c'è è il mister che si mette dietro Chilis ti guarda tipo calma possiamo gestirlo non ti preoccupare state tranquillo affidiamoci alle parole del capitale nostalgia ok già ho il fisso negli occhi gli metto una mano sulla spalla e dico ti fidi di me ok tornate all'ufficio signor funzionario le vogliamo chiedere scusa per lo spiacevole incontro che abbiamo avuto spiacevole per colpa nostra che abbiamo avuto precedentemente spero che voglia accettare le nostre scuse non solo e devo vedere quanti soldi ti ho ok non mi sono mai posto questa domanda quanto poi sei considerato una mazzetta città sta male sta male e sei nato nel paese giusto per chiedertelo tra l'altro perché non è già successo che non te lo si è già chiesto allora dello stato del paese se non me lo sono mai dovuto chiedere allora diciamo che tipo 5 cioè 10 monito loro sono tanto ma proprio tanto 5 sono una discreta sommina ecco 10 sono una buona sommina 7 monete d'oro dimmi tasca mia non di quelle condivise ok che puttana ti guarda lo sa che secondo il codice penale della città di Waterdeep il ricatto di un funzionario pubblico durante lo svolgimento dei suoi doveri è punita con l'esilio dalla città e o la fustigazione pubblica e gira verso Fred e dico Fred ma è corruzione non è ricatto no devi magari meno non lo so no staget si avvicina mette la mano sul bancone lo guarda e gli fa si e lo sai che sei il generale scopre cosa hai fatto con sua figlia come finisce l'esilio guarda come flexa sta degli idioti staget si gira e fa no ovviamente è mio fratello ragazzi io sto muovendo si stanno ribaltando sulla scrivania io nel retro grido dico pagherete tanto pagherete tanto ma vi pare che io falsifichi un documento e non lo mande a qualcuno che so che non mi va a dar gabbio ragazzi e io volevo dirgli e io non lo dico in realtà ma non lo so magari sei scemo ma non glielo dirò mi sembra che non stia piangendo sono orgoglioso di te perché la prima volta che in affezione di tensione non si è scoppiato a piangere dai prendete la vostra lettera di cambio per ventilazione in questo momento ti passo mi sto tenendo forte forte alla tua gamba ti passo la lettera di cambio ok che ammonta a ammonta a 1030 dragoni e vedi che c'era scritto 1050 ma c'è una barra sul 5 e c'è scritto 3 fa bene questo porca troia ma tu scusa e valevano eh lo pre d'arte quanto ero distratto 1030 dragoni ok eh sì ho tante cose da chiederti posso metterci due punti esclamativi dopo ok ci metto due punti esclamativi e con la lettera di cambio cioè possiamo eh beh potete usarla come i bimbi grandi come assegno oppure andrete andare in banca e ritirare mille monete come bimbi grandi come i bimbi grandi esatto Ciris come i bimbi grandi capitano Stajet e Stajet Junior vi ringraziamo per il vostro aiuto siete una banda di burgoni beh sapete a forza di prendere coltellate nei reni nel quartiere del porto ogni tanto bisogna spezzare un attivino ci sta vedi la guerra negli occhi di Stajet comprendo 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 vi ringrazio davvero a parte gli scherzi capitano Stajet grazie per averci cioè per non non aver pubblicato i nostri nomi perché siamo stati anche perché come dire avreste fatto un sacco di infrazioni voi un sacco di infrazioni noi un sacco di casini che sarebbero finiti probabilmente col niente ma tribunale giurie perfetto eh si fa brutto fa brutto no sarebbe stato noioso sinceramente è un uomo di giustizia non per forza cioè la giustizia prima della legge in sé io fuori la legge io sono la legge io sono la legge io sono la legge io sono la legge già fuori dalla finestra colpisco il gettato dalla finestra saluto io devo usciamo io devo cambiarmene mutande signori perché ho fatto una svirgolata io sono sto facendo planking per terra da più o meno due minuti stai parlando a una salma giù straiata bene signori dato che abbiamo finito il ritrovamento dei soldi e dato che tra 5 ore e 50 ho la sveglia nice direi che possiamo chiudere qua la sessione mi spiace il percumino rischi andato a papere ma non ti preoccupare no ma la ruoliamo perché la ruoliamo poi domani e per la sezione curiosità e pinzillacchere si ho due domande velocissime la parte speciale fammi fammi le domande veloci uno se sta gente e il tizio sono davvero fratelli o l'hai inventato tu ok secondo quanto la ricompensa poteva modificarsi o cose così il valore è quello ok gatto la ricompensa è questa la ricompensa è quella sì 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 il valore è quello quindi se trovi le cose allora diciamo che il manuale ti dice che tu trovi sta roba che ha questo valore e ma non ti dice nient'altro ok nel codice penale è scritto che essendo prove in una zona in cui è stato un crimine non sarebbero vostre ma non c'è scritto che loro ve le sequestrano ma d'altro canto sono casse non possono notarle quando fanno la perquisa sì 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 di conseguenza io ogni volta che ho giocato questa storia ho sempre fatto che la portavate cioè chi voleva dare le cose alla guardia e veniva data la ricompensa di ugual valore perché sta roba vi serve se no non avete i soldi non avrete mai i soldi per ristorare mille dragoni raga che cazzo li trovate e quindi immagino che anche che anche il preventivo sia roba tutta prevista da manuale come più o meno per le motivazioni che ho dato io cioè perché anche talli è interessato a fare roba anche lì nel manuale non c'è scritto ad esempio che è talli per forza farvi il preventivo di tutto c'è solo scritto quant'è il preventivo di tutto io ho sempre trovato talli dato che soprattutto nel negozio più vicino a casa vostra un buon primo png da incontrare che può fare un preventivo di tutto proprio per il fatto che la sua gilda la sua gilda di cui fa parte lui è quella che si occupa del 70% buono del lavoro anche perché se no bisognerebbe ruolare andare dalle 48 gilde e soprattutto non sono descritti tutti i personaggi quindi quello anche al di là di registrare è follia secondo me sarebbe bello guardarsi tutti i nomi e poi dire puoi fare un monologo di tre minuti nel quale diciamo tutti i personaggi di tutte le gilde e prendiamo anche il tuo applausi ecco come fanzies e pinzillacchere se volete vi leggo le gilde di Waterdeep con una filastrocca per favore grazie sono già tante allora c'è la compagnia dei carrettieri e dei postiglioni cioè praticamente Amazon sì la compagnia dei fabbricanti di archi e frecce la compagnia dei locandieri la compagnia dei pesci vendoli la compagnia dei salatori spedizionieri e falegnami salatori sì non so perché siano insieme queste tre sì non ha molto senso con i pesciaioli dovevano stare ma vabbè poi c'è il consiglio dei frutti vendoli cioè che non possono non immaginarmi se lui è un frutti giugnante esatto sì sì il consiglio poi c'è il consiglio dei musicisti strumentisti e coristi vabbè ho capito ho capito c'è da noi c'è il cosa c'è il c'è il Carlo Felice poi c'è la diligentissima lega dei fabbricanti di vele e gomene o gomene oh fiero anche diligentissima lega poi c'è l'eccellentissimo ordine dei tessitori e dei tintori stanno facendo a chiaccia il cazzo più il fedele ordine dei manuvali di strada la gita degli agrimensori dei mappatori e dei cartografi la gita per me in storia mi sembrava anche scorretto da dire però vabbè la gita degli scalpellini dei moratori dei ceramisti e dei piastrellisti ci serviranno la gita degli scrivani degli scrivi dei contabili ne dobbiamo assumere uno quando poi l'attività funziona la gita degli spallatori di retame scusa hanno una gilda loro a parte certo ragazzi informiamo come siamo per una gilda la gilda dei barcaioli la gilda dei bottai la gilda dei candelai e dei lampionai mi serve tutto la gilda dei cantinieri e degli idraulici mi serve anche questo la gilda dei carpentieri dei riparatori di tette e degli intonacatori che è quella di cui fa parte Calle la gilda dei carrai la gilda dei cartolai la gilda dei cesellatori la gilda dei costruttori di carri e carrozze che non è quella dei carrai la gilda dei fabbricanti di selle e finimenti la gilda dei farmacisti e dei medici la gilda dei fidati peltrai e fonditori fidati la gilda dei gioielieri o degli orafi la gilda dei giullari la gilda dei lavandai la gilda dei macellai la gilda dei mastri marinai la gilda dei panettieri poi io sono lunghe la gilda dei soffiatori di vetro dei vetrai e dei produttori di lenti la gilda dei vinai dei distillatori e dei mescitori la lega degli scuoiatori e dei conciatori la lega dei costruttori di cesti e vimini addirittura certo una lega solo per la gente che fa le intrecciate la potente lobby poi il meticolosissimo ordine dei mastri fabbri e dei metallurghi questi devono essere simpaticissimi alle feste devono essere una figata l'ordine dei calzolai e dei ciabattini l'ordine dei maestri d'ascia l'ordine dei maestri sarti guantai e mercanti di stoffe l'ordine solenne dei pellicciai e dei lanaioli riconosciuti e certo perché io mi immagino i lanaioli apocrifi esatto poi c'è l'ordine vigile dei maghi protettori è interessante e in ultimo c'è lo splendido ordine letteralmente splendido ordine degli armaioli degli orafi che non è quello dei gioiellieri è quello degli orafi e dei fabbricanti di serrature ah ecco ci sono 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 praticamente il fratello simpatico come si chiamano loro qui splendido ordine degli armaioli degli orafi e dei fabbricanti di serrature loro se la possono flexare perché hanno le armi i lucchetti e le pietre preziose sono figli voi all'interno della sarda avrete un pochino di membri di queste egipte di quelli quello dei quello dei tavernieri perché non lo nell'elenco me lo sono prasati il terzo compagnia del locandiere ah compagnia non l'avevo più sentita chiedo la cosa che mi fa scassare è che le botti di legno non le fanno i carpentieri i legnaioli li fanno i bottai sono solo i bottai per me questa è la roba per me questa roba è bellissima c'è tutta questa in realtà parte puramente gestionale divertentissima fa scassare fa male la gente degli spallatori di letame ad esempio non è letteralmente gente che spalla merda e passa tutto il giorno è la ditta di pulizie di waterdeep si si è l'amiat è la gente che va nelle fogne a pulire o la gente che pulisce le strade semplicemente waterdeep è bella pulita ma senza letame è ancora più bella dobbiamo ristrutturare tutto l'avessimo trovata già bene bastava fare un chiamo ai pulitori di letame ma poi più che altro leggendo la carta che ci ha dato perché comunque ne abbiamo le planimetrie nelle planimetrie e le stanze sopra delle cose che ci faranno interagire con i gil interessanti ci sono un sacco un sacco di stanze diciamo che sono fatte apposta in modo che un gruppo di personaggi possa dormire e vivere però anche la biblioteca mi intriga tantissimo ovviamente nella vostra via ci saranno un sacco di negozi per interagire diciamo che questa campagna costruisce un attimino un hub centrale intorno all'eschio di troll dove più o meno avete tutto quello che vi potrebbe servire da un punto di vista anche di game cioè vi serve un'armatura to lì c'è il fabbro serve un'arma to lì c'è l'altro fabbro ok perché attenzione è quello che fa le armi non è quello che fa le armature perché quello è un'altra gilda esatto se vi posso sbloccare un ricordo è come the best defense alla città imperiale di Sirodil dove c'è il fratello minore che vende solo le armature leggere e il fratello maggiore che vende solo le armature pesanti pesanti in oblivion the best defense ce l'avrò sempre nel cervello questi due stronzi che vengono solo una l'armatura leggere e una l'armatura pesante io vi asciugo il locale e io vi rubo io ti lancio l'incantesimo che ti faccio stare amicissimo e poi ti ti vendo tutto un sacco di soldi va bene quindi possiamo chiudere io non dormo due notti di sfida grande ma mi faccio una mostra appena arrivo al lavoro e boom 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 lo spacco tutto ma dormi no ma è certo che adesso vado a dormire però arrivo comunque la lavoro boom boom lo spacco tutto dormi c'è anche la versione di Valentino Rossi quella limited edition oh buona non lo so l'ho ancora trovato un bacio un abbraccio un bacio un abbraccio saluto nei bacioni bye bye a tutti ciao foto di Gianni Maranti ah pensavo foto di altri vabbè ciao ho interrotto su